Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, cominciamo. Buonasera a tutti, cominciamo. Buonasera a tutti, cominciamo. Noi abbiamo invitato una serie di persone per poter dire a loro sul fatto che forse le cose non stanno andando esattamente come dovrebbero andare. Noi abbiamo cercato di dare loro un pulpito, questo è il pulpito e voi siete gli spettatori. Grazie alla parola a Giosuè Di Salvo. Ognuno di loro si presenterà per conto proprio perché è il pulpito su cui si potrà dire finalmente qualche cosa. Grazie. Grazie, Mizzio. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti al Re della Terra, tappa genovese. Il mio non è un TED, è solo un saluto introduttivo. Sono Giosuè Di Salvo, mi devo autopresentare, come diceva Mizzio. Sono portavoce del Comitato per l'Expo dei Popoli. Il Comitato è ad oggi costituito da 40 organizzazioni no profit che da tre anni lavorano per portare a Milano, in occasione di Expo, la voce di associazioni, ONG e soprattutto movimenti contadini a tutto il mondo per rispondere alla sfida lanciata alla disposizione universale, come nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Per fare ciò noi stiamo organizzando un forum, un forum globale di tre giorni, dal 3 al 5 di giugno del 2015, in Fabrica del Vapore a Milano, a cui parteciperanno oltre 150 delegati e rappresentanti delle maggiori reti internazionali ambientaliste, di cooperazione allo sviluppo, reti di produttori di cibo, quindi allevatori, pescatori, contadini, ma anche reti dell'economia solidale e della finanza alternativa. Oggi qui a Genova, stasera con tutti voi, apriamo la rincorsa verso questo grande appuntamento e con l'incontro di voci ed esperienze che ci apprestiamo ad ascoltare, vogliamo rappresentare una cosa secondo noi semplice ma molto forte, che quando ci presentiamo non siamo solo buone pratiche, spesso veniamo chiamati a metterci in mostra come portatori di buone pratiche, ma non siamo solo questo, quando siamo insieme, quando siamo uniti nella diversità delle nostre specificità, diventiamo un vero e proprio soggetto politico globale, un intellettuale collettivo, si sarebbe detto all'inizio del Novecento, un intellettuale collettivo che è capace di proporre soluzioni politiche a problemi, fame e povertà, che sono eminentemente di natura politica. E sono in grado di proporre soluzioni che forse non sono buone per tutti, ma di sicuro sono buone per coloro che da sempre vivono i fallimenti del mercato nel garantire giustizia ed eguaglianza. La visione generale che ci unisce, e qui cito il Manifesto per l'Expo dei Popoli, sottoscritto da le 40 organizzazioni e molte altre nel 24 ottobre 2011, la visione generale è quella di una globalizzazione che sia finalmente virtuosa, in grado cioè di valorizzare anziché appiattire le differenti identità, le caratteristiche locali e gli ecosistemi. Una globalizzazione che vorremmo delle opportunità e della partecipazione, invece che dello sfruttamento e dell'esclusione. Sul tema poi specifico del diritto al cibo e della sostenibilità, l'idea forte che ci tiene insieme è che oggi non ci può essere sicurezza alimentare senza sovranità alimentare. E non ci può essere protezione della biodiversità e lotta efficace al cambiamento climatico senza una sovranità ambientale. Oggi, secondo ciò che osserviamo il nostro lavoro in prima linea, come NG, come associazioni e come produttori di cibo, uno dei maggiori ostacoli, la libera scelta dei popoli, delle comunità, è proprio una strutturale diseguaglianza nell'accesso e nel controllo delle risorse fondamentali. Acqua, terra, sementi, fonti energetiche. I modelli di consumo occidentali, i nostri modelli di consumo, Europa e Stati Uniti, che ormai sono stati assunti anche da questi paesi emergenti, sono modelli insostenibili. Sono modelli che chiamano l'accaparramento di queste risorse. E questo accaparramento di risorse, che non è solo terra, ma è più ampio come concetto, è agito da grandi attori del settore privato. Senza il benché minimo coinvolgimento delle comunità locali, quando si negozia l'accesso e il controllo delle risorse naturali, e soprattutto senza la benché minima regolamentazione di queste imprese rispetto agli impatti negativi che le loro azioni hanno nel sud del mondo. L'ultimo living report del WWF quantificava in 6.600 miliardi di dollari i soli danni ambientali che si generano nell'attività economica nel sud del mondo, cioè l'11% del PIL mondiale. Sono danni ambientali. Molto più difficile quantificare quelli economici e sociali. Ma questo è un dato importante. Il recupero però di una sovranità piena sulle risorse naturali va di pari passo con un recupero di sovranità piena in termini alimentari. Oggi la concentrazione della proprietà della terra, delle fonti d'acqua, fa il paio con tutta una serie di concentrazioni sulla filiera agroalimentale globale che va dalla terra al piatto di tutti noi. Sette imprese multinazionali contano al 70% delle sementi. Dieci imprese si spartiscono il mercato e le forniture di pesticidi e fertilizzanti. Quattro traders muovono le principali idratte alimentari, quindi soia, cacao e caffè, su scala globale. Se a ciò si somma la concentrazione dell'industria di trasformazione, Nestlé da solo a 7%, Nestlé più Coca-Cola, Unilever, Mars e Kraft fanno 15%, 15% la trasformazione di cibo industriale, e mettete a finire il potere, la grande distribuzione organizzata nelle relazioni con i produttori e gli artigiani dei paesi come il nostro, ma anche la maggior parte dei paesi occidentali, quello che emerge è un vero e proprio quadro di potere nelle mani di pochi. Quindi sono pochi che controllano le risorse fondamentali a svantaggio di tutti. Sovranità e queste concentrazioni di potere hanno un effetto molto reale, hanno un effetto di indebolimento delle società democratiche. E le società democratiche più deboli fanno più fatica a garantire diritti fondamentali, diritto al cibo e all'acqua in primis. Quindi sovranità alimentare e ambientale si fondono per noi in un unico progetto politico di trasformazione, dalla società dei consumi a una società delle relazioni. E questo progetto politico, così come ve lo sto descrivendo molto brevemente per questioni di tempo, è quello che noi abbiamo messo al centro della nostra azione congiunta in occasione della prossima esposizione universale. Una trasformazione della società che è già in corso. Non dobbiamo inventarci niente, una trasformazione della società che è già in corso. E oggi le voci che abbiamo raccolto vogliono testimoniarlo attraverso la loro passione, attraverso la loro presenza fisica su questo palco, attraverso la loro anima di artisti, di artigiani, di coltivatori e di attivisti, che hanno aderito all'iniziativa e che io oggi voglio ringraziare a nome di tutto il Comitato per l'Expo dei Popoli e a nome di tutte le donne e gli uomini che nel mondo lottano ancora oggi e oggi più che mai a rischio anche della propria vita per costruire un altro mondo possibile. E uso questa espressione non a caso, la uso perché martedì prossimo a Tunisi si apre il prossimo forum socialista e mondiale. Qui siamo a Genoa, io sono figlio del Genoa Social Forum, sono figlio di Porto Alegre e sono contento di avviare qui la rincorsa all'Expo dei Popoli. Quindi ringrazio tutti voi, i relatori e vi auguro buon intrattenimento e arrivederci a Milano. Buonasera, io sono Andrea Di Stefano, sono il direttore del mensile Valori, un mensile che si occupa di questi temi da più di dieci anni, promosso dalla Fondazione Culturale e Responsabilità Etica. Noi in questi anni abbiamo raccontato molte di queste buone pratiche, quelle a cui faceva riferimento Giosuè, buone pratiche che sono servite anche alle comunità a capire quali sono i problemi di un sistema economico che scarica i costi sulla collettività. costi ambientali, costi sociali, costi materiali, sono almeno vent'anni che si parla delle ricadute di queste dinamiche e del fatto che poi la collettività è costretta a pagare i costi che sono determinati da una logica che vede al centro un unico dogma che è quello del profitto fino a se stesso. Le comunità, i popoli hanno messo in campo delle pratiche nuove, hanno imparato già loro a internalizzare i costi, perché si pongono loro le domande su come ridurre l'impatto ambientale, su come combattere le diseguaglianze sociali, su come ricostruire le comunità e i territori evitando la disgregazione. Io penso che questa occasione di Expo dei Popoli debba essere l'occasione per lanciare delle proposte concrete che trasformano queste buone pratiche in iniziative politiche e in provvedimenti che possono dare una linea molto chiara di far pagare al profitto o almeno una parte dei costi che ricadono sulla società, sul territorio, sulle persone. Spero che da questo punto di vista l'occasione dell'Expo dei Popoli sia un filo conduttore. Siamo partiti, non so quanti di voi se lo ricordano, ma 10-15 anni fa alcuni pochi che erano considerati un po' degli utopisti, dei sognatori, parlavano della Tobin Tax, di una tassa sulle transazioni finanziarie. Oggi la tassa sulle transazioni finanziarie, seppur con una serie di conflitti, di contraddizioni, seppur con l'attacco violento delle lobby finanziarie, che non vogliono ovviamente l'attuazione, è diventato un progetto concreto, è un provvedimento dell'Unione Europea, diventerà legge, in alcuni paesi lo è già, è già un provvedimento che è operativo. Secondo me bisogna proseguire su quella strada, perché la tassa sulle transazioni finanziarie non ci sarebbe stata se non ci fosse stata la mobilitazione, le campagne. In Italia è una campagna che per chi l'ha seguita, secondo me è stata molto efficace, è molto mobilitante alla 005, per chi segue internet con l'hashtag TTF o 005 può informarsi, ci sono diversi siti che raccontano che cosa significa e quanto può pesare questo provvedimento oggi, ma soprattutto quanto può pesare in futuro. Secondo me quello è solo il primo passo. Io spero che l'occasione dell'Espo dei Popoli, per esempio, possa mettere sul tavolo una richiesta forte per una carbon tax, per una tassa sulle emissioni connesse all'uso delle sostanze fossili, perché i costi di quel modello economico li paghiamo tutti, perché i cambiamenti climatici non sono più, anche in questo caso, non sono più appannaggio né degli esperti né di quelli che pensano che sono sognatori. Sono un dato di fatto, acclarato, lo dicono gli scienziati, lo vediamo tutti i giorni, lo misuriamo con mano, questa città l'ha misurato e non poche volte, ma ormai non c'è nessun territorio che sia assente o che sia salvo rispetto a queste dinamiche. Quindi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Se dobbiamo fare in modo che ci sia una trasformazione reale, che si incominci a lavorare arginando alcune logiche di profitto, che sono dannose per tutti, che sono mortali per tutti, che alcuni potrebbero definire delle armi di distruzione di massa, perché così è stato, se pensate, per esempio, al ruolo della finanza, allora il passo ulteriore deve essere quello, per esempio di una grande campagna di mobilitazione pubblica per avere un provvedimento sulla carbon tax, per fare in modo che le risorse della carbon tax servano per avere quelle disponibilità per gli interventi nel territorio, per il sanamento ambientale, per favorire quella transizione che in molti territori è possibile. Il Mediterraneo potrebbe essere, in prospettiva, lo dicono gli studi, le ricerche, potrebbe avere un'autosufficienza energetica utilizzando due cose, le rinnovabili e il risparmio energetico. Noi possiamo farlo, ci sono i dati che lo dicono chiaramente, puntando seriamente su rinnovabili e risparmio energetico, si potrebbe avere un'autosufficienza energetica, una riduzione drastica delle emissioni climateranti e i costi dell'energia più bassi. Ma non possiamo fare questo fino a quando c'è una competizione al ribasso delle fonti fossili, anche se il petrolio oggi è sceso, anzi a maggior ragione perché oggi è sceso, questa è un'opportunità eccezionale per lanciare questa campagna e per far capire in questo caso concretamente che si può far pagare i costi che un certo modello economico, che punta solo alla realizzazione del profitto, scarica sulla collettività. Vi dico solo un dato, in questi anni di iperbolla petrolifera con i prezzi molto alti, le compagnie petrolifere, le sei principali compagnie petrolifere, hanno decuplicato i loro profitti. Adesso piangono perché il petrolio è sceso e minacciano ovviamente di licenziare i lavoratori, i posti di lavoro, ma hanno decuplicato i profitti negli ultimi dieci anni. E questo non può essere accettabile, esisteva addirittura nella teoria liberale dell'economia la necessità di un intervento quando c'è una situazione in cui si realizzano dei profitti che sono inaccettabili, che vengono considerati extra, super, che non sono in linea con l'andamento del mercato. È venuto il momento di realizzare questo ed è un altro passo di un percorso, non è la fine, è solo l'inizio. Grazie. Io sono Maurizio Carucci e sono un contadino ormai da diversi anni e la nostra attività agricola, mia e dalla mia compagna, che si chiama Martina Pannarese, è in Val Borbera, che è una valle incugnata nell'Appennino Ligure Piemontese, una valle molto selvatica, che in alcuni punti addirittura fa provincia con quattro località differenti. E insieme alla mia compagna appunto abbiamo creato questo progetto, stiamo sviluppandolo, che si chiama Cascina Barbano, un progetto agricolo ampio contadino. E in questo progetto, che poi è un'azienda agricola, coltiviamo cereali, vino e ortaggi, prediligendo le varietà storiche. Ma le varietà storiche di sementi, cioè per cui piante non commerciali, non tanto per un sentimento nostalgico o perché abbiamo delle manie o collezionismi vari, ma perché semplicemente ci sembrano più idonee al contesto in cui siamo. Cioè sono sementi che in qualche modo nel nostro contesto si comportano meglio e ci danno più frutti e più soddisfazioni. Per esempio coltiviamo un fagiolo, che si chiama fagiolana bianca di figgino, che è una varietà di fagiolo della famiglia dell'Ispagna, molto interessante, che ha degli aromi, è una vigoria davvero interessante. Per i cereali, per esempio, invece coltiviamo popolazioni che sono un insieme di varietà insieme, coltivate insieme, grazie alle quali a livello agronomico si aiutano, ma poi anche a livello aromatico crediamo che diano dei frutti interessanti. Sulla vite stiamo ragionando su alcune varietà di bianco e di rosso in collaborazione con il CNR. Per cui il nostro è un progetto non industriale, evidentemente, è un progetto contadino. Contadino perché? Perché non usiamo sementi OGM e non poniamo nello sviluppo di queste sementi nessuna fiducia, perché rinnoviamo, conserviamo, preserviamo la biodiversità, che non è solo al passato, ma deve essere anche un futuro. Dobbiamo noi essere artefici di questa biodiversità, non soltanto pensare alle sementi storiche, alle tradizioni, ma dobbiamo in qualche modo cominciare a farle noi di nuovo, queste tradizioni. Un progetto contadino perché non prevede l'uso di salariati, se non quella del nucleo familiare, o al massimo di un salariato magari stagionale, e perché fondamentalmente basa il proprio commercio sulla vendita diretta, o al massimo con un intermediario. Ecco, queste sono le caratteristiche un po' dell'agricoltura contadina in Italia. Da cinque anni a questa parte una serie di organizzazioni, associazioni contadine italiane, si sono unite cinque anni fa e hanno fondato questa iniziativa che è la Campania per l'agricoltura contadina, ovvero un percorso che tende al riconoscimento a livello normativo, giuridico, della figura del contadino, che è un'altra cosa rispetto al coltivatore agroindustriale, che fa monoculture e che magari vende la GDO, ma per carità non esprimiamo nessun tipo di giudizio, siamo semplicemente un'altra cosa che ci piacerebbe e lavoriamo affinché ci siano delle norme dedicate, che non sono né deroghe né permessi, delle norme dedicate perché è evidente che è un mestiere un po' diverso. Chiudo, in relazione all'Expo 2015, noi crediamo che sia una grandissima occasione persa, perché ci sarebbe piaciuto, ci piacerebbe, e crediamo che sia fortemente utile, sarebbe stato creare un percorso di indagine, di ricerca sulla sovranità alimentare, magari diffuso nelle cascine, nelle città sì, ma anche nelle cascine dove ci sono gli attori, coloro che concretamente fanno cibo. Purtroppo così non è, anzi, sembra quasi uno spettacolo, una fiera come molte altre sul cibo, dove a sostenerlo c'è il McDonald's, c'è la Coca-Cola Company, c'è la Nestlé, e allora insomma, quando si parla di cibo, di sovranità alimentare, ci sono questi grandi marchi che sono delle industrie e danno semplicemente degli obiettivi diversi rispetto alla qualità dei prodotti. Insomma, è una cosa che purtroppo ci fa un po' soffrire, ma ovviamente abbiamo le spalle larghe e continueremo il nostro cammino. Per chi volesse avere delle informazioni in più, abbiamo un sito che si chiama agricolturacontadina.org e ringrazio Expo dei Popoli per averci invitato e sarà lunga, ma da qualche parte arriveremo. Grazie. Prova, prova. Buonasera, io sono Maria Giulia Scolaro, sono un'azienda agricola biologica che opera in Savignone, qui nella provincia di Genova. Io sono qui per parlarvi di un'esperienza che ho fatto, io lavoravo presso Olivetti, quindi mi occupavo di informatica. nel momento in cui la mia azienda ha incominciato a ristrutturarsi, ho pensato bene di chiudere la filiale di Genova dove io lavoravo e mi ha proposto di andare a lavorare a Milano. Dato che io avevo già scelto di vivere in campagna parecchi anni prima, avevo acquistato una casa con terreno, ho pensato che tutto sommato si potesse vivere anche in un modo diverso. Dopo un lungo pensiero è una meditazione abbastanza pesante, ho preso la decisione di lasciare la mia azienda e di andare in una direzione completamente diversa. Dato che nel mio terreno c'erano già alberi da frutta e avevo già avviato un orto ad uso familiare, ho cominciato a impiantare delle piante di rose da sciroppo. A questo punto ho pensato anche di trasformare questi prodotti e di farne dei sciroppi e delle marmellate. Negli anni ho pian pianino sviluppato un discreto catalogo di prodotti. Tutto questo è avvenuto molto lentamente e direi anche molto in solitaria, nel senso che le istituzioni inizialmente hanno promesso aiuti, ma in effetti poi questi aiuti non ci sono stati. E purtroppo la piccola, chiamiamola azienda agricola, oggi non è aiutata assolutamente. Si pensa ad aiutare le grosse imprese, i grossi proprietari terrieri, ma i piccolini restano veramente nel dimenticatoio. Quindi o ci si rimbocca le maniche e si fa da sé o se no si soccombe. Il problema più grosso per quanto mi riguarda è stato quello del laboratorio, perché per poter trasformare i propri prodotti necessita un laboratorio di trasformazione a norma. I costi sono veramente alti. All'inizio abbiamo pensato con un consorzio e con un'associazione di mettere in piedi un laboratorio comune, che però purtroppo in Liguria e a Genova in modo particolare l'associazionismo non funziona in maniera corretta, perché non c'è ancora questa mentalità cooperativa. Quindi, diciamo, a obtorto collo, ho dovuto prendere la decisione di fare un investimento a casa mia. Ho ristrutturato una parte della mia casa e ho fatto questo laboratorio, dove peraltro oggi mi trovo molto bene. Mi sono anche certificata biologica e diciamo che ad oggi nella mia azienda, nel mio laboratorio, produco più di 50 tipi di confetture diversi, oltre allo sciroppo di rose faccio anche altri sciroppi di fiori, di viole, di cose di questo genere. Cioè mi sono impegnata impegnata, soprattutto in prodotti di nicchia, in prodotti particolari, in prodotti che possano avere del valore aggiunto. Questo perché? Perché sennò non ci si campa. Se uno vende solo dell'insalata o vende solo degli ortaggi o semplicemente i petali di rosa, sono talmente poco pagati che non ci si campa, non ci si mangia. Il valore aggiunto è quello che ti dà la possibilità di vendere il prodotto ad un prezzo un pochino più corretto, più giusto, e soprattutto il biologico oggi è percepito correttamente, cioè come un prodotto che ha sicuramente un valore superiore. Quello che ci si aspetterebbe, ad esempio, è, dopo tutto questo iter, di avere da parte, ad esempio, delle istituzioni o comunque da chi eroga i famosi contributi, un minimo di riguardo, e invece questo riguardo purtroppo non c'è. Perché come al solito il PSR che viene fatto ogni due anni, mi sembra, viene comunque dato a chi ha un quantitativo di terreno di un certo livello. Io che sono un microbo, una piccolissima azienda con poco terreno, non vengo neanche presa in considerazione. Quindi il mio rammarico è quello di vedere che comunque, soprattutto i giovani, perché per quanto mi riguarda, io avevo comunque fatto un'esperienza lavorativa, avevo comunque già acquistato questa casa con terreno, e quindi ho potuto fare questo tipo di esperienza. Ma un giovane che parte oggi, che vuole acquistare una casa, un terreno, mettersi in proprio e fare un'attività, dove prende i quattrini per farlo? Andrebbe in qualche modo aiutato, valorizzato. Purtroppo tutto questo non c'è. Io oggi, devo dire, sono soddisfatta della mia attività, ma perché ce l'ho fatta da sola. Mi sono rimboccata le maniche, mi sono data da fare, ho cercato degli sbocchi, dei mercati, tra l'altro quando ho iniziato io non c'erano tutti i mercatini del biologico, non c'erano tutte queste mercati anche della terra. È stato un lavoro anche di, posso dire, di ricerca del cliente, di intesa anche con le persone. E direi che in qualche modo ho dato anche un piccolo impulso alla mia vallata, io sono nel parco dell'Antola, dove tra l'altro abbiamo anche inventato delle manifestazioni, tra queste c'è la festa delle rose, che appunto serve proprio per far conoscere il nostro territorio, il nostro prodotto e i contadini della nostra valle. Con questo io vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci. Buonasera, non so se si sente, spero di sì. Sono Luca Colombo, sono il segretario della Fondazione Italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica e da parecchi anni milito nelle reti internazionali che promuovono la sovranità alimentare che è stata più volte evocata. Quella sovranità che, come dire, ricordando Expo dei Popoli appartiene ai popoli. Noi ricordiamo spesso questo, nell'articolo 1 della Costituzione Italiana si dice che la sovranità appartiene ai popoli e la sovranità alimentare quindi ci appartiene, qualcosa che dobbiamo noi promuovere, sostenere e difendere soprattutto. E quando si parla di popoli, si parla d'Italia il discorso del cibo viene quasi inevitabile, credo che sia anche per quello che l'Expo è stata vinta dall'Italia per portare il mondo, l'esposizione universale a Milano a parlare di cibo. Abbiamo la presunzione di essere la culla del cibo, il Mediterraneo è stata la culla dell'agricoltura e il mondo occidentale, l'Europa in cui noi ci muoviamo è stata la culla della modernizzazione, della modernizzazione anche delle campagne, della modernizzazione dell'attività agricola, quella modernizzazione che in qualche modo ha cercato di imprimere un'impronta molto forte nei nostri sistemi di coltivazione, allevamento e quant'altro. E questa modernizzazione poi l'abbiamo esportata, la rivoluzione verde è stato questo, una guerra alla natura portata alla chimica e una guerra ai contadini portati dalla scienza, da una scienza bianca, anglosassone, austera, molto imbrigliata nei suoi camici. Ora siamo una svolta possibile, una svolta importante perché una volta che abbiamo invaso il sud del mondo con le nostre strategie, con le nostre scelte, con i nostri prodotti, con i nostri brevetti, a questo punto siamo arrivati a un momento in cui possiamo mutuare dal sud del mondo che è ricco di pratiche, ricco di pensiero, portare qui delle cose che a noi servono tremendamente. Io provo a identificarne due, la prima si chiama agroecologia, è una disciplina, è un insieme di pratiche e sta diventando ormai un movimento sociale molto importante, è l'agroecologia una e trina si potrebbe dire, sono almeno tre cose racchiuse nella stessa parola, nello stesso concetto. L'agroecologia significa cercare di lavorare con la natura, non più avere la natura come nemica da aggredire, da modificare, da torturare, ma avere la natura come alleato e che possa in qualche modo attraverso le sue potenzialità e la comprensione dei suoi vincoli aiutarci a produrre il cibo in una maniera sostenibile, territorialmente definita e pertinente con le comunità che lavorano su questo cibo. L'agroecologia ormai avanza, l'abbiamo mutuata dall'America Latina e da lì che l'idea è partita, in realtà era un'idea che aveva già trovato radicamento in tanti territori, non ultimo i nostri, non l'avevamo però ancora concepita come tale, è stato quindi un passaggio importante, un passaggio che all'inizio ha avuto una declinazione più scientifica, disciplinare, tecnica e che piano piano è evoluta, è evoluta capendo che c'erano delle pratiche nei territori, che c'erano delle esperienze fatte da contadini, da agricoltori, da allevatori ma anche da tecnici che stavano cercando di capire che tipo di relazioni, l'attività umana, antropica che si innesta sulla natura potesse in qualche modo generare degli alimenti appropriati e alimenti da usare come tali, perché poi il problema è che si parla tanto di sfida alimentare, si parla tanto di fame, in realtà di cibo ne abbiamo una quantità enorme, abbiamo una quantità di materia prima che fatica a diventare cibo, che perde la sua dignità di cibo per diventare altre cose. L'agroecologia ci aiuta anche a riappropriarci di questo, a riappropriarci proprio del senso autentico dell'alimento che serve a dare energia agli esseri umani, energia alla vita come Espo e Espoordinaria dice e racconta. Ora, da questo sud del mondo in realtà, grazie anche al fatto che nel frattempo è diventato un movimento sociale, è diventato un corpo sociale che sta spingendo su questa strada, l'agroecologia piano piano si sta affermando. Non è un caso che la FAO abbia organizzato a settembre un simposio sull'agroecologia, la sdoganata dentro un tempio che di solito è avvezzo a trattare il tema dell'agricoltura in una maniera più convenzionale, ha portato lì a discutere ricercatori, contadini, attivisti, ha ragionato su come promuovere questa agroecologia che però va anche difesa, va tutelata soprattutto da quella che può diventare una cooptazione, una specie di espropriazione dei termini. Noi vogliamo che l'agroecologia sia trasformativa, cioè che sia capace di portare trasformazione, un cambiamento. In realtà c'è il rischio che diventi trasformismo per cui il business as usual piano piano si delizzi di nuove etichette che sono magari più appealing, che hanno più fascino e che in qualche modo vanno a espropriare la natura autentica di questi concetti. Quindi questa agroecologia come movimento sociale va proprio anche tutelata in questo senso. Venti giorni fa in Mali, in un villaggio del Mali, del centro del Mali, si è tenuto un forum mondiale, internazionale sull'agroecologia, un forum dove hanno partecipato gli agricoltori, i contadini, ma anche i pescatori, anche i popoli indigeni, i pastori. Quindi la comunità internazionale che produce alimenti si è trovata in Mali a discutere di cibo in una modalità e in una chiave agroecologica. Questo è stato importante proprio perché bisogna in qualche modo riaffermare contenuti, ribadirli, dargli pienezza, cercare di capire quali sono le esperienze le pratiche che gli danno sostanza a questi termini e nello stesso tempo evitare che vengano sfruttati e spropriati da chi tenta di guardare alle nuove pratiche, ai nuovi movimenti sociali, a quello che loro producono come anche risorsa e bacino da cui trarre nuovi slogan, nuove formule per riconfezionare l'esistente. Ma dal sud del mondo abbiamo preso anche un'altra cosa che è la dinamica partecipativa e la capacità di costruire la comunità e nella comunità e sviluppare nuove pratiche e nuovi concetti, nuovi pensieri, nuove idee. Mi piace pensare che noi ci sfamiamo anche di idee e quindi è bene in qualche modo cercare di condividerle, di apprenderle anche dove sono. E questa idea di fare per esempio ricerca partecipativa che è uno degli sforzi che noi stiamo realizzando parte proprio dal sud del mondo è lì che riceve la spinta. Quando prima si parlava di sementi, di selezione partecipata, di popolazioni di sementi, bene, la ricerca di nuove varietà, di nuove popolazioni, di nuovi semi in maniera partecipativa, fatta di concerto con gli agricoltori, guardando, disegnando il tipo di semente che si vuole e alla fine riconoscendo il risultato nell'interesse dell'agricoltore e questo viene dal sud del mondo. È qualcosa di cui adesso stiamo sperimentando la forza, stiamo cercando di metterla in pratica in Italia, in Europa e sta dando dei grandi risultati ma è ancora una volta qualcosa che noi abbiamo appreso da non troppo lontano, da non troppo remoto, probabilmente da un punto di vista delle comunità, da molto vicino a noi anche se stentiamo a riconoscerle come nostri fratelli, come in realtà sono. Quindi questa forza che ci arriva della partecipazione, dell'aggregazione è una forza che ha un potere trasformativo che noi dobbiamo mettere in campo. Agroecologia e ricerca partecipativa sono due delle transizioni che servono a rinnovare i nostri sistemi alimentari, a ridargli dignità, a ridargli senso pieno e sono delle transizioni che però da sole non bastano, nel senso che sono transizioni perché hanno bisogno di tempi, di maturazione, di comprensione da parte di chi le deve in qualche modo adottare, provare a mutuare, ma richiedono anche delle trasformazioni molto forti, in primis delle politiche. Ci sono politiche alimentarie e agricole che devono mutare radicalmente la loro struttura, ci sono le politiche di ricerca che devono cambiare, devono riconoscere i percorsi che vedono i saperi informali, i saperi esistenti, quelli tradizionali o anche quelli esplorativi ma che non sono i saperi scientifici cosiddetti e così come li abbiamo definiti finora, che devono essere sostenuti, devono essere valorizzati e devono essere anche foraggiati di quelle risorse, di quegli investimenti appropriati a quelle dimensioni che sono fondamentali per far sì che sboccino i risultati. Ora, in questo noi appunto pensiamo che bisogna in qualche modo esporci, lo dico con la X, esporci oltre il cibo, oltre il cibo nel senso andare a capire cosa c'è dietro, chi c'è dietro al cibo, capire e distinguerlo e apprezzarlo quando deve essere apprezzato e allo stesso tempo esporci oltre il cibo in avanti, andare a esplorare nuove traiettorie, andare a vedere con quali modalità riusciamo a ridargli dignità e renderlo di nuovo funzionale agli esseri umani. Grazie. Buonasera, buonasera, grazie, io sono Frankie i Energy MC, normalmente faccio il rapper e alle volte l'intrattenitore e io purtroppo non ho una competenza specifica nei temi che vengono trattati, che sto sentendo trattare da persone che hanno un focus estremamente preciso, puntuale su questi temi che poi sono gli argomenti di Expo dei Popoli. Io quello che so fare è dare delle opinioni, ho campo dando il mio punto di vista e questa sera su invito di Expo dei Popoli nella persona di Maso Notarianni sono venuto a fare una piccola riflessione su i concetti di miseria e di povertà che in maniera estremamente strana e promiscua si confondono nel nostro linguaggio quotidiano e come sapete io ho avuto un trascorso, sono stato inizialmente arruolato per la rassegna la manifestazione la fiera del Food and Beverage Expo 2015 volevo chiedere scusa, io ho capito l'Esbo 2015 mi ero immediatamente infiammato però successivamente ho capito di cosa si trattasse e ho capito che effettivamente non facesse per me. Successivamente il giorno in cui ho rilasciato la dichiarazione nella quale prendevo, rinunciavo al mio incarico di ambassador qualche ora dopo sono partito alla volta dello Zambia insieme a tra l'altro a una delle ONG che è anima di Expo dei Popoli cioè Acra CCS e lì ho avuto occasione ulteriore di riflettere su questo tema su questa differenza il tema del mio intervento è miseria e povertà questo cartello l'ho scritto soltanto per il piacere di poter utilizzare il font comic sans serif che è il peggiore non l'avevo mai fatto mi sembrava una cornice adatta ecco allora che cos'è la povertà fondamentalmente la povertà significa non avere mezzi avere mancanza di cose pratiche per conseguire dei risultati Africa Zambia e le strade sono così questa è una strada buona questo è un villaggio povero questa cosa che vedete adesso viene normalmente diciamo indicata come povertà questo è un villaggio povero questo quello è un bambino povero in un villaggio povero e vedete alcune costruzioni sono realizzate in mattoni di fango a secco i tetti sono in paglia altre sono direttamente costruite con una malta di fango questo è un'altra capanna vorrei che vi soffermaste sulla non tanto sulla parte alta dell'immagine ma sulla parte bassa di queste immagini che vi sto facendo scorrere perché i posti poveri non sono sporchi sono talmente poveri che non hanno l'immondizia probabilmente ma non sono sporchi non c'è deperimento non c'è non ci sono cartacce bottiglie verdure marce cacca di animali no c'è terra e come è possibile questa cosa cioè sono poveri e si prendono addirittura il lusso di pulire è strano normalmente il compito di pulire intorno alle capanne ce l'hanno i ragazzini le ragazzine soprattutto che normalmente si svegliano alle 4 del mattino e accendono come prima cosa il fuoco e poi iniziano a spazzare intorno alle loro capanne alle loro abitazioni e si fanno quindi più o meno le 6 all'incirca e a quel punto vanno a scuola partono a piedi 3 4 6 8 chilometri in alcuni casi a piedi in uniforme perché sono poveri ma hanno questo vizio di mettersi in uniforme per andare a scuola e c'è anche il vizio di essere orgogliosi di indossare quell'uniforme si sentono forse un po' l'esercito del sapere no? questa è una scuola è una scuola abbastanza diciamo fortunata perché è costruita in mattoni perché ha una discreta copertura anche se questa nella fattispecie dovrà essere riparata e loro sono studenti sono bellissimi c'è una bellezza in Zambia perdonatemi la digressione che trascende il sopportabile viene assalito in ogni dove bambini anziani pochissimi anziani che ci sono adulti però hanno una bellezza straordinaria e ti senti guardato negli occhi per tutto il tempo è un'abitudine alla quale diciamo che non avevo più a stare qui in Italia e questa è una una classe di una scuola povera piena di studenti poveri che però stranamente sono ordinati puliti erano in silenzio quando siamo entrati insieme all'amica Patrizia Canova e c'era una una stranissima cosa la povertà è strana fa fare delle cose strane alle persone cioè abbiamo scoperto che essere poveri significa per esempio nei casi in cui ci siamo trovati essere educati essere puliti essere generosi strana questa scuola è una scuola fortunata ripeto nonostante manchino i vetri ci sono gli infissi ma non ci sono i vetri in questa scuola ma stanno lavorando per poterli fare ma chi sta lavorando per poterli fare? i genitori questa è una scuola comunitaria esistono due tipi di scuole in Zambia le scuole governative e le scuole comunitarie la scuola comunitaria è una scuola che viene fisicamente costruita dai genitori che in alcuni casi realizzano i mattoni e poi sulla base di un progetto che fanno iniziano a costruire gli edifici e tirano su le coperture e mettono i tetti e pagano i professori persone che abitano in villaggi in quei villaggi poveri puliti ma poveri pensano che mandare i propri figli a scuola sia una cosa importante per loro ma non solo per loro e quindi si autotassano e pagano i professori di tasca propria affinché i figli vadano e comprano anche gli uniformi ai figli perché vogliono che siano ben ordinati quando vanno a studiare e questi genitori qui sono in una classe che viene utilizzata anche come magazzino ripeto questo è un edificio abbastanza fortunato perché ha pareti ha pareti tutti intorno normalmente sono una parete di testa una in fondo a tutta altezza che tengono su una copertura la bella e meglio e poi ci sono muretti alti meno di un metro dalle parti non c'è praticamente mai il pavimento spesso non ci sono neanche i banchi c'è una lavagna e c'è un professore e c'è una classe che sta attenta e questi genitori hanno una una nobiltà nel richiedere aiuto sotto forma di progetti non sotto forma di denaro nessuno nessuno ci ha chiesto del denaro in tutto il periodo nel quale ci siamo trovati a girare quattro cinque strutture ogni giorno nessuno ha chiesto soldi tutti però chiedono dei progetti chiedono un aiuto per poter fare qualcosa per qualcosa per loro fondamentalmente loro sono due bambini poveri vedete questo di qua evidentemente è più povero di questo forse perché questo ha due mosche quindi quell'altro ma non dico queste cose perché le voglio prendere per il culo non hanno problemi alimentari probabilmente uno dei loro genitori sarà sieropositivo visto che un adulto su sette in Zambia è sieropositivo magari uno di loro due o entrambi spero proprio di no è sieropositivo a sua volta perché in molti casi la sieropositività della mamma al momento del parto passa al figlio e questi ragazzi hanno un'aspettativa di vita media di 49 anni l'età media dello Zambia è 16 anni è una nazione di adolescenti poveri però sono puliti poveri ma che chiedono dei progetti che chiedono delle idee e ragazzi in una nazione in cui i trasporti hanno questo tipo di standard è evidente che bisogna guardare con un occhio specifico al tipo di di aiuto di intervento che deve essere necessariamente rispettoso però ripeto la caratteristica di trovarmi in mezzo a così tanti poveri senza nessuno che mi chiedesse un soldo mi ha veramente mi ha veramente stupito ma allora io sto parlando un sacco di povertà non ho ancora parlato della miseria mi accorgo questa è una latrina di una scuola ok questa è un bagno povero di una scuola povera in una nazione povera ok in questa latrina ci devono andare loro ci devono andare i ragazzi e le ragazze le ragazze durante il ciclo in una nazione in cui è difficile trovare assorbenti magari smettono di andare a scuola e non hanno una tutela di privacy però attenzione forse merita uno sguardo più attento di fatto il bagno povero della scuola povera è un buco per terra con una palizzata costruita intorno si utilizza finché si utilizza quando è pieno lo sottura si prende la capanna si sposta un po' più in là si fa un altro buco e si va avanti allora se questa è la povertà che cos'è la miseria per me? è l'Intercity Milano Napoli di un qualunque giovedì dell'anno scorso questa è la miseria secondo me la miseria è vivere essere un paese del primo mondo e far pagare per un servizio che è ben distante in termini di standard igienico da quello di un bagno povero di una scuola povera di una nazione povera stiamo peggio qui almeno nella latrina la cacca non si vedeva qui invece in bella vista la miseria è questo la miseria è fottersene del prossimo fondamentalmente la miseria è non mi va anzi gommia voia come si dice a Cremona questa è una foto che ho fatto a Cremona non distante da dove abito ed è un genio quello che ha pensato di appoggiare direttamente al cartello di vieto di scarico dove c'è il numero ritiro a domicilio si sono scordati di scrivere gratuito se scriveva gratuito metteva anche un divano probabilmente comunque due settimane dopo ci ha ripensato in effetti la miseria è questo la miseria è uno stato dello spirito ragazzi significa io io sono bravo perché io faccio la differenziata e diavolo brutto schiacciasse una bottiglia nel buzzo accanto non avevo la macchina fotografica con me c'erano un giorno due scatoloni vuoti ma montati che riempivano completamente lo spazio della carta e attorno l'apocalisse montagne di merda la miseria è una questione dello spirito è uno stato dell'anima è una carenza che trascende dal possesso materiale di beni e la mancanza di qualcosa di più profondo di più spirituale sa anche essere fintamente educata la miseria si prega gentilmente ai pedoni di non sostare davanti al cancello per la quiete dei cani per favore abbaiano soffrono io sono per strada io passo per strada e quindi sono sulla pubblica via però dai fai due passi in più per favore anzi stai proprio lontano perché i cani possono disturbare i vicini la miseria è non prendersi la responsabilità di avere due cani cagacazzi ok e si butta la spalla prima sulla schiena di chi passa per strada poi su quella del vicino ma si esclude il fatto che ci sia una propria responsabilità siamo fuori da questi giochi poveri cani li disturbate loro si incazzano non è bello non trovate quindi le amministrazioni comunali giustamente intervengono perché fortuna vuole che ci sono persone che si rendono conto del nostro problema che noi siamo uno stato in avanzato stato di miseria e quindi cercano di aiutare di suggerire di dare una direzione è fatto obbligo per il conduttore di rimuovere gli escrementi io me li immagino questi che si sentono conduttori di un Basset Hound che tira giù perché sono Basset ma sono Hound ricordiamocelo adesso perdonate il problema la miseria da dove deriva cioè qual è la radice prima secondo me della miseria è l'ignoranza è l'ignoranza crassa che ci pervade che pervade anche me che pervade con un cucchiaino ognuno di noi qualcuno ha delle betoniere intere pronte a rifornirlo di nuova ignoranza fresca da poter mettere in campo per esempio adesso scusatemi se l'assonanza potrà essere tremenda ma l'avvolgente cremosità di una schiuma di caffè provalo anche ricettato cioè devi trovare un pusher come funziona ma tu che sei lì ce l'ha vero un cazzo di vocabolario ce l'hai Google nel tuo studio dove stai facendo comunicazione per dei ragazzini che sul litorale adriatico dove ho fatto questa foto possono anche desiderare di provare qualcosa altro di ricettato che lì si è sempre trovato molto bene tra l'altro in passato purtroppo vabbè quello è un altro discorso cioè una grande istituzione un ente importante il club alpino con tanto di timbro e di firma spiega che è vietato i minoranni salire al soppalco cazzo al soppalco e questi sono persone che hanno dei luoghi di potere il problema è l'ignoranza d'altronde il cinema moderno di Roma vicino alla stazione Termini è in questa situazione credo già da 40 anni più o meno questa è la penultima volta che ci sono passato avanti l'ultima volta c'erano tre ragazzi che si stavano girando una spada e non ci si può lamentare del fatto che che ci sia che ci sia ignoranza e no? questa è la nuova stazione di Roma la Tiburtina quella dedicata ai Frecciarossa che uno vedendo una cosa del genere dice che culo che non ho il 20 quantomeno la comunicazione che viene fatta e a questi livelli adesso adesso capisco che tu pensi che il pubblico sia irreparabilmente irrecuperabile che non capisca una mazza però è evidente che qui a meno che uno non ma ma so bisogna essere belli ma e allora perché guasto lo scrivi in mezzo cosa mi vuoi indicare cioè io arrivo lì me la sto facendo addosso giuro giuro gli avrei rubato il sacchetto di plastica e sarei andato via pisciandomi addosso con questo sacchetto perché è una provocazione cioè tu sei quello che ha il potere e che vuole istruire vuole aiutare me e come mi aiuti mi fotti dicendomi che i binari dall'1 al 16 sono di là però quelli dall'1 al 19 pure cioè siamo costretti visto che siamo in una nazione in cui c'è certa povertà che e non solo certa povertà cioè alle volte la povertà si mescola con la miseria non scherziamo non è che sto facendo la santificazione del povero e i borghesi del mondo evoluziono tutti per carità non mi permetterei mai però guardando per le leggi grandi numeri cioè bisogna scriverlo oh guarda che se lasci la roba di valore in macchina magari te la fottono può essere può essere che rimanga questa cosa ma questo è un uito di servizio ma in un ospedale italiano del centro Italia sarà accettabile questo c'è della miseria non riconoscete anche voi la miseria in tutto ciò no? e quindi verrebbe da dire e se io non devo salire né scendere questa è la miseria cioè ti do una comunicazione e poi te la ripeto io mi metto nei panni di un diversamente abile che vorrebbe arrivare lì e dire sì sì è il mio posto e vorrei che non fosse scritto in questa maniera che non mi fosse riservato in questa maniera d'altronde quando uno va in una caffetteria romana viene questo qui è il tipo di comunicazione che viene fatta ma il problema è l'ignoranza è l'ignoranza fortuna che un periodico lombardo di cui non fare il nome ci spiega che al di là del terrorismo islamico e dopo dieci anni torna la paura ragazzi i nuovi insegnanti il 60% saranno meridionali risolveranno chi può dirlo io ho capito però che l'ignoranza è il cancro del nostro tempo accompagnando un'altra un'altra importante ONG Action Aid è una ONG giusto una ONG Action Aid in una missione in Brasile un paio di anni fa insieme a Lillo della coppia Lillo e Greg e a Alex Braga della trasmissione 610 siamo andati qua e l'entroterra dello stato di Bahia non mi ricordo come si chiami questo posto qua perché è un posto strano dimenticato da Dio sembra il far west tagliano gli alberi alla stessa altezza dei tetti delle case non me l'hanno spiegata non sono stati capaci di spiegarmela però c'è questa piccola ferrovia che attraversa un manipolo di case che porta carbone avanti e indietro e poi lo riporta indietro e avanti siamo andati a visitare una scuola in quell'occasione a un certo punto vengo improvvisamente circondato dalla gang del paese e che come vedete insomma sono dei bei delinquenti tra questi delinquenti di cui immagino lui essere il basista nella fattispecie tra questi delinquenti c'è quello lì in alto quello dietro la maglietta del tipo con la maglietta rossa che c'è il collettino giallo che dall'alto dei suoi nove anni mi si avvicina e mi fa in brasiliano portoghese ci siamo capiti abbiamo avuto un bello scambio e mi dice ma scusa ma ma in Europa dove stai tu come sono i soldi allora noi abbiamo l'euro esiste una comunità di più nazioni pim pum pam un euro equivale a 2 reais e 66 della vostra valuta brasiliana eccetera un consorzio bello bello ma ce l'hai da farmeli vedere apre il portafoglio e ci avevo un pezzo da 50 euro e dico ma guarda questi sono 50 euro proprio docente in pieno vedi quindi fatemi il conto in quanti reais sono eccetera questi che volevano vedere i soldi come erano fatti li prendono e se li iniziano a guardare se li passano e dico vedete scritto in due lingue scritto in caratteri anche greci perché la Grecia fa parte almeno all'epoca e faceva parte e si girano sta ganga sta banconota a 50 euro e me la ritornano e lui ritorna all'attacco e dice ma ma le monete come sono le monete riapre il portafoglio e tiro fuori una moneta da un euro e dico oh fantastico un euro l'unità base del sistema monetario europeo questa moneta vale 2 euro 666 faccio tutta sta pantomima gliela metto in mano e questo ragazzo prendendo in mano la moneta la gira ed esclama ah ma questo è l'uomo vitruviano sì sì cioè scusa tu conosci l'uomo vitruviano e lì guarda come si guarda giustamente un cretino mi fa sì non è quello disegnato da Leonardo e dico sì no considera che se tu vieni a Cremona per dire è una città abito lì ma a Sondrio a Bagnara Calabra e fermi cento persone per strada gli chiedi chi è l'uomo vitruviano guardano un azzardo neanche pochi pochi credimi senti facciamo una bella cosa allora mi sei piaciuto veramente tanto e io facciamo che questa moneta la regalo alla scuola ma tu ne sei il custode cioè diventa una dotazione scolastica però la conservi tu e facciamo che tutte le volte che dovete parlare dell'euro dell'uomo vitruviano dei bimetalli di qualunque sia del cerchio qualunque sia una motivazione che secondo te è valida per citare tirare in causa in ballo questa moneta tu la tiri fuori e la fai vedere a tutti quanti ah va bene va bene va bene questo si allontana dopo un po' mi sento tirare la giacchetta e mi ritrovo lui ma ma dopo che l'ho fatta vedere a tutti quanti te la devo ridare figlio mio no la vedranno altri dopo questa è diventata come la lavagna come i computer la cattedra è diventato un pezzo della scuola ok è un pezzo della scuola di proprietà della scuola ma lo custodisci tu e allora lui se n'è andato poi dopo altri cinque minuti senti tirarmi la giacchetta e lui mi fa ma quindi adesso ti devo dare due reais e 66 cioè c'è c'è ancora i libri l'ho raccontata un milione di volte questa cosa ma è troppo bella è troppo bella mi ha fatto capire mi ha fatto capire tante di quelle cose con questa questa attenzione al bello cosciente di un valore eccetera però era la bellezza e il sapere che c'è lì dentro e se volessimo dare una un'immagine alla miseria io avete capito che mi piace fare le fotografie e io sceglierei questa ma non tanto perché c'è un mazzo di fiori che che rappresenta la bellezza poi un mazzo di fiori non non arriva mai non corredato diciamo di un sentimento di un motivo di un qualcosa ma la miseria non sta tanto nel fatto che questi hanno preso il bello dei fiori e l'hanno buttati via ma porca puttana nella plastica e se dunque questa qui deve essere l'immagine della miseria credetemi io per tutto il resto dei miei giorni spero di convivere con l'immagine della povertà grazie grazie mille buonasera buonasera a tutti io sono francesco anastasi ho 23 anni e sono un gastronomo prima di iniziare sfatiamo questo mito perché i gastronomi tutti pensano che siamo quelli col bicchiere in mano del magno e bevi no io sono laureato all'università di scienze gastronomiche ho studiato il cibo dall'agricoltura alla storia all'economia all'economia politica bene in questo intervento per fare questo intervento mi hanno aiutato tre signori il primo si chiama Wendell Berry che dice mangiare è un atto agricolo ora certe volte secondo me ci dimentichiamo quotidianamente che quello che c'è nel nostro piatto deriva direttamente o indirettamente dall'agricoltura e tutto ciò che viene fatto ad operato alla terra noi lo introiettiamo se chiedessimo a un bambino delle scuole elementari cosa c'è dentro da dove viene il prosciutto il formaggio che c'è dentro la tua merenda se non sei già passato alle merendine però e lui ti risponde e vabbè dalla fabbrica del prosciutto e dalla fabbrica del formaggio perché non sai che c'è un maiale che ha mangiato qualcosa che se è stato male ha preso delle medicine che poi passa a fine carriera passa miglior vita diventa prosciutto o che c'è una mucca che mangia dell'erba se va bene che se sta male prende delle medicine e per avere latte 365 giorni l'anno deve essere dobbiamo operare uno stress agli ormoni per avere sempre latte sempre latte sempre latte che peraltro ormai il latte al di là che viene pagato 20 centesimi al litro ma spesso è meglio mangiare il cartone che ha più proteine del latte perché quello che troviamo nei supermercati ormai è deodorato scremato perché poi la panna serve per fare i biscotti secondo signore si chiama Davide Breton e dice il cibo è sapore del mondo perché è sapere del mondo il connubio fra agricoltura e cultura in due parole in una parola per me è la biodiversità ma cos'è la biodiversità parliamoci che la biodiversità sono tutte queste specie viventi nel mondo che sono nella terra e che formano degli ecosistemi è come quando abbiamo la torre e noi togliamo i tasselli ogni tanto ne scartiamo qualcuna perché ruba spazio a qualcos'altro bene negli ultimi cento anni abbiamo verso il 70% della biodiversità di 2500 pere che si coltivavano negli Stati Uniti due coprono il 98% del mercato di 30.000 specie commestibili noi ne usiamo 30 e 5 e 6 fanno il 60% del fabbisogno ora degli scienziati inglesi sono arrivati a dire che questa è la sesta estinzione di massa che avviene su questo pianeta e la quinta vi assicuro che non erano le boy band degli anni 2000 ma 56 milioni di anni fa erano i dinosauri ora il problema è chi chi deve difendere la biodiversità la biodiversità è importante noi non ce ne rendiamo la biodiversità è veramente ma chi la difende la biodiversità bene c'è un terzo signore che mi ha cambiato molto che si chiama Joseph Kizerbo è il più importante storico d'Africa io lavoro per Slow Food e seguo un progetto sull'Africa questo signore cita in un suo libro un proverbio in lingua bambara e dice egli sa nuotare sa cacciare sa andare a cavallo ma più di tutto egli conosce se stesso l'augurio più bello che si possa fare a una persona in lingua bambara è ti auguro di ritrovare te stesso forse noi dovremmo ritrovare noi stessi forse l'esposizione universale doveva essere emotivo per ritrovare noi stessi bene come diciamo come un tema ben fatto io ho fatto una premessa ho fatto una critica ho fatto capire qual è il problema però critica pur parlet non va bene vi dico la proposta dal 3 al 6 di ottobre di quest'anno a Milano abbiamo chiamato la rete di Terra Madre che è una rete di contadini da tutto da 160 paesi del mondo che si riuniscono ogni due anni durante il Salone e il Gusto a Torino li abbiamo chiamati in via straordinaria per venire a Milano fuori Expo a far sentire la voce di chi realmente nutre il pianeta abbiamo chiamato Terra Madre Giovani We Feed the Planet perché loro possono dirlo We Feed the Planet noi diamo da mangiare al pianeta sarà un Terra Madre Giovani perché questi sono le persone che sono il futuro del cibo sono le persone che danno da mangiare alle persone a tutti noi vi dico due dati veloci veloci sono 500 ci sono più di 500 milioni di aziende agricole familiari sono il 98% delle proprietà agricole nel mondo producono il 56% dei prodotti agroalimentari certe volte siamo convinti che ci sono solo quei due che hanno citato prima solo quei due che no ci sono e sono quelli che si vedono di più ma ci sono tanti altri nel mondo che difendono la biodiversità che portano avanti che difendono i semi quando quando noi parliamo e ripetiamo una stessa cosa tante volte questa cosa perde di valore bene Expo 2015 Feeding the Planet Energy for Life nutrire il pianeta energia per la vita bene quindi le melenzane della caponata sono energia le melenzane le carote le pomodoro sono energia che noi introiettiamo siamo entrati da quattro anni dentro una crisi entropica per un piccolo problema perché per produrre quelle melenzane che ci danno cento di energia noi ne usiamo quattrocento passa un anno passano due anni passano vent'anni entriamo nella crisi entropica come si esce dalla crisi entropica cambiando modello si esce cambiando modello c'è ancora chi ce la suona e ce la canta del cambiamento che arriverà a questa crescita aspettiamo la crescita io me la ricordo forse ero piccolo così la crescita ma aspettiamo la crescita per non parlare di quanto sprechiamo produciamo produciamo per dodici miliardi di persone per dodici miliardi di persone il trenta per cento dei frutti biologici vanno nel compost perché nessuno li vuole forse dobbiamo pensarci bene che forse stiamo realmente sprecando un po' troppo bene io vi voglio lasciare con un augurio intanto di darci una mano di partecipare di mettere idee è aperto a tutte le associazioni Expo dei Popoli ci darà una grossa mano per questo Terra Madre Giovani perché questi ragazzi dall'Africa dal Sud America dalla Thailandia verranno a Milano ospitati dalle famiglie milanesi abbiamo contattato tutti anche il Cardinale Scola tutti abbiamo obilitato tutti perché pochi andare col cappello no ma tanti a mettere poco facciamo venire 3-4 mila contadini da tutto il mondo a parlare di cose vere a parlare dei mestieri a parlare di politica a parlare di cibo quindi io vi lascio con un augurio che quello che è la nostra terra che è la nostra nazione che noi stessi possiamo ritrovare scusate il giro di parole possiamo ritrovare noi stessi grazie diffondendo il messaggio grazie al lento contagio dell'esempio non dimentichiamo per me sono parole lento contagio dell'esempio come ha detto Papa Francesco qualche giorno fa la terra non è eredità dei nostri padri ma è un prestito dei nostri figli grazie mille buonasera a tutti sono Franco Roy sono un piccolo produttore di olio ligure arrivo dalla zona dalla provincia d'imperia nell'entrotella di Almaritaggio un piccolo paese che si chiama Badalucco nella valla argentina Maso l'amico Maso mi ha chiamato appunto per testimoniare un attimo il tipo di agricoltura che facciamo noi facciamo un'agricoltura biologica tutto viene riciclato con le foglie della raccolta delle olive facciamo di nuovo compost che ridiamo di nuovo ai nostri olivetti abbiamo cinque asini un cavallo una pecora una capra che girano negli olivetti che tengono l'erba tagliata intanto concimano con tutto il nocciolo dell'olivo che facciamo praticamente facciamo marciare tutti i nostri riscaldamenti quindi l'acqua calda riscaldamento sia per il frantoio che per la casa che per l'agriturismo tutto viene fatto con il nocciolo dell'olivo quindi praticamente facciamo un ciclo completo di questa trasformazione dell'olivo perché purtroppo l'oliva l'80% è acqua e scarto diciamo solido e si prende solo il 20 15-20% che è l'olio che dopo è quello che mangiamo e quindi abbiamo fatto questa scelta di tentare di recuperare completamente e di usare questo 80% che era lo scarto quindi siamo stati la prima azienda nel settore dell'olio a essere stati certificati free on the earth da questa grande organizzazione internazionale perché appunto si crudeva un ciclo e non facevamo rifiuti facendo un prodotto alimentare fare agricoltura da una parte è difficile dall'altra parte è bellissimo perché dà anche tantissime soddisfazioni noi abbiamo puntato tantissimo sulla qualità cosa che nel 1980 non veniva molto apprezzata perché volevano solo il prezzo il prezzo e poi i dottori dicevano che l'olio extravergine faceva male e che l'olio di semi faceva bene quindi abbiamo avuto anche queste battagge pubblicitari pagate dalle multinazionali per distruggere il nostro prodotto comunque chi ha fatto qualità devo testimoniare che piano piano adesso c'è una bella rivincita e quindi adesso un po' in tutto il mondo si cercano dei prodotti di qualità che quindi diciamo e poi in più è arrivato un po' di orgoglio contadino cosa che purtroppo prima non c'era nell'ottanta nel settanta chi era contadino si sentiva uno sfigato adesso chi è contadino incomincia a essere orgoglioso di essere contadino e anzi se ne vanta e quando è in giro è anche facile che sia invidiato per il tipo di vita che fa a contatto con la natura a contatto con gli animali e in un mondo un po' più sano che nella città quindi questo è un momento di un po' di rivincita la cosa bella di noi contadini adesso che incomincia anche a partire delle reti che sono nate grazie a queste organizzazioni a queste a queste organizzazioni allo Slow Food per esempio io voglio raccontarvi un po' la mia esperienza il primo presidio che abbiamo fatto internazionale io sono sempre stato nello Slow Food sempre stato un grandissimo amico di Carlin e il primo presidio internazionale che si è fatto è stato l'olio di Argan l'olio di Argan per chi non lo sa la foresta dell'Arganier si trova nel centro del Marocco è una zona molto povera è una foresta importantissima perché fermano questi alberi fermano la desertificazione e all'interno di questa foresta ci sono dei villaggi piccolissimi dove c'era un gravissimo problema perché tutte le ragazze che erano vedove ragazze madri oppure ragazze abbandonate in questi villaggi venivano completamente escluse dal villaggio e non avevano più nessun modo di sostenersi o di sostenere i propri figli la ragazza che veniva abbandonata dall'uomo non era più niente non contava più niente lo Slow Food insieme all'università di Rabat ha fatto un presidio in quella zona sull'olio di Argan che è fatto con il frutto con il gherico del frutto di questo albero e sono riusciti a coinvolgere tutte le ambasciate che c'erano in Marocco con un piccolo investimento di 10 milioni quegli anni la era ogni ambasciata pagava una una casa dei tappeti delle pietre dove queste ragazze picchiavano spaccavano il gherico prendevano i gusci e aveva e compravano una macchina una piccola macchina per schiacciare questi semi per fare quest'olio siamo andati io sono andato tre volte giù poi abbiamo portato su delle ragazze abbiamo fatto gli abbiamo insegnato come assaggiare un olio perché poi gli oli che siano di oliva che siano se sono cattivi certe caratteristiche di brutti gusti li hanno essendo un grasso sono simili quindi gli abbiamo insegnato a schiacciare bene a produrre bene quest'olio a fare un olio di qualità adesso pensate che ci sono 25 cooperative ci sono 5 mila ragazze che sono diventate le ragazze più ricche di questi villaggi che lavorano siamo riusciti a vendere il loro olio grazie io per esempio vendevo l'olio in Germania e ho passato il nome del mio importatore tedesco l'altro frantoiano ha passato il nome dell'importatore norvegese in questo modo facendo rete abbiamo aiutato completamente una zona di produzione aiutandoli a produrre meglio a fare un prodotto di qualità e a riuscire a venderlo è vero sono solo 5 mila ragazze però se noi piccoli agricoltori incominciamo a fare rete come si è sognato tanti anni fa Carlino Petrini con lo slow food e chi fa quello che ha 20 non so animali che fa formaggio in Kazakistan ha un problema però sa che può contattare il suo collega che invece fa formaggio in Olanda piuttosto che in Italia e buttare nella rete il problema che gli sta succedendo con i suoi animali magari dalle altre parti c'è uno che ha avuto lo stesso problema e che può rispondere e dire guarda che io l'ho risolto così fa così che risolvi questo problema quindi la rete è importantissima secondo me è un elemento che per noi piccoli agricoltori essere in rete diventiamo più potenti delle multinazionali questo era il messaggio che volevo dare e un'altra cosa che voglio dire prima di andare via in questo momento c'è da fare rete per noi agricoltori con degli agricoltori che sono in molte difficoltà e che questa comunità europea vuole distruggere che sono gli agricoltori greci e quindi tutti noi piccoli agricoltori dobbiamo aiutare i piccoli agricoltori greci io aiutandogli a vendere un po' di olio chi fa patate a vendere patate e cercare perché l'unico modo per combattere le multinazionali e queste regole assurde che stanno facendo a Bruxelles è quello di unirci in rete e tanti piccoli diventano più forti e più potenti delle multinazionali grazie buonasera a tutti sono Francesco Guglielmi sono un produttore biodinamico o meglio un agricoltore biodinamico vengo da Perinaldo questo paese che è a Ritosso di Sanremo un paese che ha un territorio di 22 km quadrati ho la fortuna di essere anche il suo sindaco di questo paese ora in parole povere vorrei un po' spiegarvi come si produce per esempio la nostra produzione il carciofo che è un presidio solo food è un carciofo che viene dalla Provenza quando la Provenza era ancora nostra diciamo così è un carciofo senza spine produrlo in modo biodinamico è importantissimo e i suoi gusti cambiano completamente ora cos'è questa biodinamica per esempio nel nostro campo è questo dolce connubio con la natura che affascina io dico sempre ai cittadini ai ragazzi che coinvolgo a coltivare dico sentite dovete imparare ad amare la terra come se fosse parte di voi stessi questo ecco cosa vuol dire imparare mi dicono loro ad amare la terra come se fosse parte di noi stessi dico guardate la crosta terrestre è formata da un suolo un sottosuolo un strato attivo uno strato inerte quello che si coltiva è il suolo lo strato attivo che ha una profondità all'incirca di 60-70 centimetri questa profondità è quella che rispecchia la natura quella che rispecchia il sole che rispecchia l'acqua che rispecchia l'aria in questo strato ci sta la fertilità quindi voi dovete rispettare questa fertilità perché la biodinamica sono i fiori sono le api e insegno loro a capire cosa vuol dire se c'è un'impollinazione perché poi non coltiviamo solo carciofi coltiviamo ortaggi e tante altre cose se c'è un'impollinazione è quella entomofila è quella dell'ape ma se c'è il vento sarà un'impollinazione anemofila ad opera del vento quindi non credete che quando si coltivano gemmi in serra questo vuol dire che siano tutelati non è vero perché le api entrano vanno a bottinare e rovinano le coltivazioni di fuori il vento fa la stessa cosa allora intanto un concetto di questo tipo perché riescano a capire io li coinvolgo e cosa vuol dire essere anche amministratori e essere anche avere questa fortuna se vogliamo vuol dire per il lato è coperto per metà di questi 22 di ulivetti è una parte della boschiva e il comune cosa fa cosa ha fatto da qualche anno ha fatto un'indagine conoscitiva per andare a rilevare quanti di questi ulivetti hanno ancora un proprietario il paese fa 900 abitanti ma ne facevano molti di più c'è stato un esodo quindi queste campagne sono state abbandonate nel tempo ora vuol dire la possibilità di riconvertirli perché non hanno più un proprietario e se lo troviamo catastalmente risale alla fine dell'Ottocento questo succede in altre parti ma non solo nel mio paese ma in tutta l'introterra a Ponentino la cosa penso che anche come Franco Roy conosce questa situazione ed è questa chiamare questi ragazzi e dire avete un appezzamento di 5000 metri che per noi è già importante mezzo ettero perché sono tutte fasce e fascette l'olivo è un albero miracoloso è seco lo capitossoliamo lo potiamo due anni dopo produce ecco allora vedo questi ragazzi che cominciano a affascinarsi a questa cosa cominciano a chiedere ma io posso avere un appassamento cosa posso fare e quindi è un ritorno vero a quello che erano i valori di un tempo della nostra zona noi viviamo solo ed esclusivamente di questo il fatto di coltivare i carciofi ed altri ortaggi è stato come dire un valore aggiunto ringrazio comunque in modo particolare Slow Food che ci ha dato un presidio che ci ha dato il modo di tutelare questa coltivazione la tutela avviene sul fatto che era scomparso stava scomparendo si poteva riprodurre molto velocemente noi siamo otto produttori eravamo dieci due si sono scostati coltivandolo riproponendo le piante come si diceva un tempo in gelatina cioè producendone molte un amico carissimo che magari qualcuno di voi è nel senso di parare un certo libero Guglielmi che è un grande botanico è un grande botanico mi disse Francesco guarda se fai questo non mi salutare più non mi chiamare più perché lui era veramente e mi dice tu devi eseguire la divisione di ceppaia come facevano 200 anni fa tu prendi le piante le spacchi fai dei pezzi dei ripianti probabilmente ce ne avrai anche 4-5 anni ad andare in produzione però avrai una pianta fedele ed eccezionale molto resistente ai parassiti ecco poi insegnando questo però insegno anche cerco di fargli capire anche l'educazione alimentare che è quella della semplice della semplice massaia che va sul mercato e compra una mela golden gialla invece di comprare una mela rossa allora dico attenzione che la mela gialla subisce 16 trattamenti antichretogambici e antiparasitali la mela rossa si è vero è farinosa ma ne subisce solo 6 quindi voi mettete già da parte 10 trattamenti perché tanto non è che possiamo dire che tutti possono vivere a Perinaldo sono quelli che non hanno la possibilità di coltivare e vanno a comprare sul supermercato ma quando voi comprate massaia la scarola va benissimo perché la scarola contiene un latice che è repellente per gli insetti però se voi comprate la lattuga vi accorgerete che quando la lavate è viscida fa delle bollicine che cos'è questo? è una sostanza che danno per accespugliare la lattuga anche se è approvato dal ministero della sanità non è una caramella non è una caramella allora dico ai ragazzi alle vostre mamme dite queste cose insegnategli il concetto dell'educazione alimentare viene proprio dalle basi della terra e si capisce solamente frequentando la terra e cercando di capire noi abbiamo una scuola e c'è un piccolo lorto scolastico poi lorto in condotta quello di Isolo Food che senza fare tante statistiche sì lo sappiamo che nel mondo c'è questo c'è questo sono grandi statistiche che ne parliamo tanto però se non siamo noi a farci promotori di queste cose i primi in piccolo tutto quello che diciamo lo continuiamo a dire e non risolviamo assolutamente niente a mio avviso i bambini della non della scuola diciamo così materna ma quelli degli elementari quando noi gli insegniamo a seminare questi sono contentissimi apprezzano e capiscono molto di più di chi ha vent'anni o trenta e alla sera vanno in casa dalla mamma e dicono mamma ma guarda abbiamo seminato i piselli ma non sono come quelli che sono diversi e la mamma è contenta al mattino dopo viene a scuola e dice sono felicissima che ci sia questa educazione alimentare ma che deve partire dalla base dei bambini deve partire perché sono loro il nostro futuro sono loro che riusciranno domani se gli diamo l'opportunità perché non è facile dare l'opportunità a coltivare non è facile allora penso che i comuni dalle nostre parti quello che sto facendo io lo stanno facendo quasi tutti fare questa indagine per andare a rilevare i terreni coltivabili e darli in gestione anche perché il terreno non ha un proprietario il terreno c'è è lì e anche quando ha un proprietario il proprietario magari un giorno muore il terreno rimane lì e quando noi lo vediamo gerbido abbiamo iniziato a coltivare la lavanda siamo diventati penso anche badaluco forse paese della lavanda perché ci mettiamo un po' voglio dire a coltivare tante cose perché non tutti possono un terreno a tante conformazioni se un terreno è scoglioso se un terreno è molto calcareo il carciofo non ci lavora quindi noi dobbiamo integrare con delle sostanze umiche sicuramente perché la biodinamica si basa su quello e questi cominciano a capirlo però voglio dirvi e chiudo perché poi se si parla troppo certe cose voglio dire che nei paesi nei piccoli paesi c'è ancora la possibilità di rinascere di ricrescere io invito chi vuole venire nel mio paese a coltivare avrà un petto di olivetto sicuramente e avrà anche una casetta magari con un affitto calmierato quindi questo vi lascio con questa proposta ringrazio Expo dei Popoli per avermi dato questa opportunità di parlare di Perinaldo in modo particolare oltre che delle culture grazie a tutti Buonasera a tutti mi chiamo Gaetano Benedetto lavoro al WWF Italia vi parlo di Mediterraneo e di Pesca era uno spazio inizialmente affidato alla mia presidente Donatella Bianchi che purtroppo per motivi di lavoro non è potuto essere qua e mi prega di salutarvi e di dirvi quanto condivida l'iniziativa e lo spirito dei valori che ci animano e per cui siamo qua il senso di questa mia riflessione muove da alcuni elementi e cerca di capire come un po' la pesca può diventare nel momento in cui viene gestita in un modo sostenibile un esempio di convivenza pacifica civile e sostenibile appunto per quanto riguarda uno spazio comune qual è quello del Mediterraneo c'è un punto di partenza che voglio darvi che è quello dell'ONU cioè l'ONU ha nel 2006 elencato una serie di fattori di crisi del Mediterraneo ne ha messi insieme tanti li vedete elencati qui chiedo scusa del testo troppo lungo ma vi assicuro non lo leggerò possiamo dire una battuta che i problemi del Mediterraneo in realtà sono problemi che nascono a terra sono problemi legati all'inquinamento legati all'erosione delle coste alla cementificazione legate a tutta una serie di fattori antropici che vengono appunto da terra non è soltanto un problema che nasce dallo sfruttamento del mare che poi è un po' l'argomento che tratteremo la cosa incredibile è che tutti questi problemi davvero tutti hanno delle risposte hanno delle soluzioni che sono state individuate cioè hanno delle regole hanno delle normative hanno delle convenzioni e queste cose non stanno funzionando e possiamo anche dire che nessuno dei fattori di impatto ambientale che ci sono sul Mediterraneo sono in qualche maniera sotto controllo in diminuzione o in una fase di soluzione e il dramma sempre stando a quello che ci dicono le Nazioni Unite è che questi impatti andranno tutti ad aumentare e andranno tutti ad aumentare non fosse per il semplice motivo che la popolazione sul Mediterraneo andrà ad aumentare perché c'è una concentrazione di popolazione che va sulle coste e che porterà probabilmente al 2050 a una popolazione stimata tra i 250 milioni e i 300 milioni di persone sulle coste del Mediterraneo a fronte di questa situazione non abbiamo la percezione di quello che è il valore del Mediterraneo un valore che è un valore certamente culturale lo vedremo tra un attimo ma è un valore straordinario anche da un punto di vista naturale e da un punto di vista economico noi non abbiamo la percezione che in un mare così piccolo lo 08% della superficie marina di tutto il pianeta si concentra il 7% della biodiversità marina di tutto il pianeta guardate 580 specie di pesci 21 di mammiferi marini 48 squali 36 razze 5 tipi di tartarughe 1286 specie vegetali marine è uno spaccato di quello che c'è all'interno del nostro mare e qualcuno sempre le Nazioni Unite in un programma speciale nel 2011 ha stabilito un po' quello che era il valore rapportato in termini economici di questa biodiversità arrivando a fare una cifra che è di 26 miliardi di euro e in questo valore le persone più ricche siamo noi e l'Italia perché l'Italia è il paese che ha maggior biodiversità e che è stato stimato che all'incirca 9 miliardi di questi 26 miliardi appartengono al capitale naturale che può essere ascritto al nostro paese ora la storia dello sfruttamento di questa risorsa legata alla pesca è una storia che viene da molto lontano queste sono delle immagini di mosaici che stanno a Cartagine siamo nel secondo secolo dopo Cristo però bisogna partire dal fatto che quando parliamo di pesca non parliamo soltanto di un'attività economica la pesca nel Mediterraneo la pesca come altre attività umane ma la pesca soprattutto nel Mediterraneo è anche cultura pensate a quello che è stata la capacità di trasmettere la conoscenza legata alla pesca dal modo di costruire le barche l'orientamento l'astronomia la conoscenza dei venti ebbene intorno a questa cultura la pesca nel Mediterraneo è caratterizzata dalla piccola pesca dalla pesca artigianale che ancora è basata su elementi di conoscenza molto 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 simili a quelli di secoli fa intorno a questa conoscenza e a questa cultura nel Mediterraneo lavorano 110.000 120.000 persone parlo dei pescatori professionisti c'è una flotta di 40.000 pescherecci molti dei quali sicuramente vecchi ma la gran parte di questi pescherecci sono piccoli sono più piccoli di 12 metri e riusciamo ad avere uno sfruttamento nel Mediterraneo incredibile pensate che il pescato compreso il Mar Nero è di 1.500.000 tonnellate e di questo 1.500.000 tonnellate un terzo appartiene alla comunità europea e di questo terzo che appartiene alla comunità europea la metà circa 260.000 tonnellate sbarca nei porti italiani e allora c'è forse un problema e basta questa roba e ne prendiamo abbastanza noi pensiamo sempre che siano gli ambientalisti a sollevare problemi a creare allarmi inutili in realtà questi sono sono dati molto molto ufficiali il fatto che la pesca nel Mediterraneo sia come dire ipesfruttate che molte specie sono a un momento di stress appartiene ad una serie di analisi delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea che come sappiamo finanzia in maniera importante il settore della pesca e l'Unione Europea è arrivata a sostenere col comitato scientifico e tecnico che sovrintende poi alla Commissione Europea per quanto riguarda poi le regolazioni dei finanziamenti che noi avremmo bisogno di ridurre il peso della pesca di una media del 45-51% con una media del 90% per quanto riguarda alcune specie ve ne dico una il nasello non stupitevi vediamo poi tra un attimo perché e la situazione della pesca italiana per alcune caratteristiche è per certi versi ancora più preoccupante alcuni dati sono incredibili perché l'Unione Europea ha certificato lo stato di crisi e la commissaria europea ha dichiarato che noi abbiamo una situazione di sfruttamento eccessivo per il 96% delle specie che vivono a profondità elevate e per il 71% di sfruttamento per il 71% delle specie che vivono ad acque intermedia o ad acque basse è in uno stato di stress l'unico dato scientifico che risulta in controtendenza incredibilmente dopo oltre 20 anni è quello del tonno rosso ma sono dati recenti e sono anche dati abbastanza contestati poi arrivo a dirvi anche perché rispetto a questa questione quali sono le specie più colpite ora c'è una ricerca molto interessante che è stata fatta da un istituto ellenico lo vedete citato lì l'Ellenic Center of Marine Research che ha fatto un'analisi degli ultimi 20 anni facendo vedere appunto quelle che sono le tipologie di pesce che hanno maggiormente subito questo shock e si parla di naselli e di triglie sogliole rombi e queste specie in particolare i naselli e i rombi sono quelle specie che vivono a bassa profondità le stesse che l'Unione Europea ci ha detto essere sfruttate al 91% rispetto alla quantità di specie le altre acciughe e sardine le acciughe paradossalmente sono quelle che maggiormente meno risentono di problematiche di sovrasfruttamento perché sono quelle legate appunto alla piccola pesca il problema è che quando noi beschiamo andiamo a interferire con una serie di altre specie che sono delle specie particolari come ad esempio i cetacei come ad esempio le tartarughe come ad esempio gli squali vi stupirete leggendo questa statistica che è un progetto finanziato dall'Unione Europea Tartar Life Università di Ancona con il CNR il 71% dei pescatori italiani ha pescato almeno una tartaruga in un anno di attività il 48% con la pesca a strasci il 34% con le reti da posta bene è incredibile la quantità di animali che rimane catturata per caso se io porto la percentuale in numeri assoluti il CNR ha stimato che si pescono accidentalmente al Mediterraneo qualcosa come 140.000 tartarughe ogni anno una situazione sicuramente enorme finisco rapidamente salto molte slide io voglio dirvi è possibile arrivare a una pesca sostenibile l'Unione Europea ha fatto un percorso il percorso è molto molto complesso parte dal 2006 il fatto è che tutto questo percorso è un percorso che prevede un grande coinvolgimento dei pescatori un grande coinvolgimento delle marinerie un grande meccanismo che presupperebbe un controllo che non sempre c'è noi abbiamo un controllo dovremmo avere un controllo per quanto riguarda le tipologie di pesche le tecniche per quanto riguarda la taglia del pesce le stagioni bene se non c'è il coinvolgimento diretto di queste persone non riusciremo mai arrivare a una pesca sostenibile e il tema è che dovremmo controllare i soldi che l'Unione Europea va a finanziare guardate i soldi finanziati per l'Italia dal 2014 al 2020 sono 537 milioni di euro su 5 miliardi e 749 milioni complessivamente stanziati dall'Unione Europea c'è una possibilità io finisco in un modo diverso da come ho immaginato perché volevo finire dicendovi che c'è una scommessa sul Mediterraneo che lega la convivenza dello spazio comune la scelta del vivere insieme delle regole a un riconoscimento reciproco di civiltà di culture diverse quando parliamo di pesca parliamo e pensiamo ai nostri marinai della Liguria o della Campania non pensiamo magari ai tunisini oppure ai marinai turchi però nel Mediterraneo c'è qualcosa di più che sta succedendo io voglio saltare chiedo scusa la relazione era sicuramente più lunga e farvi vedere questo perché quando parliamo di pesca parliamo delle nostre acque territoriali ma non dimentichiamo che il mar Mediterraneo è fatto anche di acque internazionali dove vige una sorta di libertà assoluta non di non governo ma di libertà assoluta si parla di libero mare sapete che cos'è questo? questa è una fattoria dei tonni è una fattoria dei tonni in acque internazionali nel canale di Sicilia negli spicchi i tonni sono per accrescimento a seconda di da quanto tempo sono dal peso che hanno e vanno un po' a rotazione come si nutrono questi tonni? si nutrono in questa maniera esattamente come il bestiame vengono allevati esattamente come le mucche gli si dà gli antibiotici perché vivono ammassati vengono poi prelevati attraverso un sistema di cattura con i subacquei che entrano vengono portati sulle navi vengono surgelati e vengono mandati altrove vengono mandati soprattutto in Giappone dove noi abbiamo un sistema di consumo molto molto particolare legato ad alcune tradizioni ma noi pensiamo al Giappone avete fatto caso che nei ristoranti italiani dove c'era scritta la cotoletta la binanesi oggi c'è la tagliata di tonno per cui aumenti di consumo che sono assolutamente incredibili ma non prendiamocela con i giapponesi perché quando mangiamo i gamberetti noi che compriamo al supermercato magari surgelati non pensiamo che quei gamberetti vengono dal sudeste del crisiatico e per essere stati fatti immediatamente hanno sventrato una foresta di mangrovie perché si creano le piscine naturali all'interno delle quali è più facile evidentemente coltivare i gamberetti bene torno al tema e chiudo il mar Mediterraneo e la pesca è un mare che rappresenta a mio parere la scommessa della convivenza del mondo non c'è un altro posto nel mondo dove si uniscono tre continenti tre religioni 20 passapesi situazioni diverse se noi siamo in grado di creare nel Mediterraneo con gli strumenti che abbiamo con l'applicazione delle normative che sono state anche firmate da questi paesi un momento di convivenza un momento di regole comune una capacità di gestire in autonomia degli stati e quindi delle popolazioni di quegli stati le risorse di quel mare io credo che noi faremo quella che è una sperimentazione di convivenza unica al mondo dimostrando che la convivenza è possibile al mondo buona sera a tutti io sono Valentina Cappanera e sono una delle socie fondatrici dell'associazione culturale Ziguele che è nata nel 2010 questa sera sono qui perché mi è stato chiesto di raccontare la storia di noi diciamo pescatrici ci hanno definito ma in realtà per raccontarvi la nostra storia devo farvi capire come la nostra storia si intreccia con la storia di alcuni pescatori di Camogli Camogli è un paesino che sta qui vicino in una delle zone comunque del promontore di Portofino fortemente antropizzate però mantiene ancora oggi quelle che sono le caratteristiche di un borgo di pescatori che ancora oggi utilizzano un sistema di pesca che si chiama tonnarella che viene calato ancora oggi in mare come nel 1600 quindi che cos'è una tonnarella penso che tutti voi abbiate già sentito parlare delle tonnare famose di Favignana Carloforte in Sardegna le tonnare di solito pescano tonni la tonnarella è una piccola tonnara in miniatura cioè c'è un sistema di camere prima del sistema di camere in realtà c'è uno sbarramento perpendicolare a costa che ferma la corsa del pesce e poi un sistema di camere dove il pesce prima si raccoglie e poi viene catturato le vere tonnare pescano tonno rosso il famoso tonno rosso che tanto i giapponesi amano e a camogli in realtà proprio perché si tratta di un sistema molto piccolo e perché di fatto tonni non è mai pescato più di tanto neanche quando tonni ce n'erano molti in realtà si pescano pesci con caratteristiche simili a quelle del tonno ma che di fatto sono annoverati nella lista dei pesci poveri pesci poveri in realtà non parliamo di pesci con una bassa denuncia dei redditi come dico sempre io ma si tratta di pesci che costano poco e pesci che hanno una carne che si degrada facilmente spesso le persone quando vanno al mercato non li vogliono e sono palamite sgombri bonitti che si avvicinano sotto costa a cercare l'acqua più calda e vengono catturati dalla tonnarella la tonnarella ha una particolarità che si trova all'interno di un'area marina protetta l'area marina protetta di Portofino sembra strano che questo sistema di pesca vada d'accordo con un'area marina ma in realtà ci va d'accordo perché è un sistema di pesca sostenibile perché pesca pesce povero e poi i pescatori utilizzano una rete da tantissimi anni che è biodegradabile una rete naturale in fibra vegetale che ogni anno si fanno arrivare dall'India e lavorano nel periodo invernale per tre o quattro mesi i pescatori producono una rete ogni anno una rete nuova in questo periodo appunto è da ieri che è in pesca la mettono in mare di solito e resta in mare fino a fine agosto settembre quindi questo è un altro motivo per cui si dice che sia una pesca sostenibile ora io dal 2006 lavoro lavoravo e lavoro come collaboratrice nell'area marina protetta di Portofino e ho iniziato a lavorare sull'impatto della pesca professionale quindi mi sono trovata a contatto ogni giorno volente o non volente con i pescatori all'inizio diciamo è stato molto difficile perché tutti sanno che i pescatori sono molto schivi e soprattutto se già il pescatore ligure è chiuso il pescatore di Camogli vi assicuro che è veramente chiuso è un personaggio molto difficile però diciamo mi sono da subito appassionata innamorata di questa tonnarella e insieme ad altre due mie care amiche Ilaria Vielmini e Maddalena Fava che purtroppo stasera non ci sono perché siamo sempre più internazionali quindi sono in giro per il mondo abbiamo deciso di aiutare i pescatori per far conoscere il più possibile il problema della tonnarella perché problema perché ogni anno i pescatori mi dicevano chissà se l'anno prossimo riusciremo a rimettere in mare la tonnara perché non ci sono più giovani che vogliono fare i pescatori allora noi abbiamo detto ma non ci sono più giovani vabbè noi siamo donne ma perché non possiamo andare in mare noi facciamo la donnarella ci svegliamo all'alba usciamo in mano con i pescatori gli diamo una mano e integriamo un pochino anche il loro reddito l'idea di partenza era buona però in realtà non avevamo fatto i conti con i pescatori che e soprattutto con il fatto che oltre a non essere di camogli eravamo anche donne così però diciamo che non potevamo fare la donnarella ma ce ne siamo fregate comunque abbiamo deciso comunque essendo testarde di dargli una mano in che modo creando appunto un'associazione culturale nel 2010 chiamata Ziguele sarebbe Ziguele che è il nome in genovese di un piccolo pesciolino colorato a righe rosse bianche e verdi che in volgare italiano significa donzella e noi siamo tre ragazze quindi abbiamo deciso di darci questo nome la nostra mission diciamo l'idea di base era quella di far conoscere la tonnarella in che modo portando i turisti a visitarla e quindi raccontando tutto quello che facevano i pescatori in quel momento quindi spiegando l'attività di pesca soprattutto per riavvicinare far riavvicinare i giovani ad un antico mestiere e diciamo che il primo anno abbiamo avuto soprattutto un successo mediatico c'è da dire che abbiamo portato sostanzialmente amici e parenti per fare per avviare l'attività però già dal secondo anno abbiamo iniziato a fare le gite con le scuole a diffondere sempre più possiamo dire di aver portato la tonnarella in giro per il mondo perché hanno cominciato a venire anche i turisti stranieri e l'attività è cresciuta moltissimo e quello che abbiamo voluto fare noi sostanzialmente era far rivivere un pochino un'esperienza fuori dal tempo e possiamo dire di essere riuscite a rivolgerci anche a un tipo di turismo diverso da quello di massa ma fatto di persone che si sono mostrate sensibili alle problematiche ambientali e della natura e concludo perché non ho più tempo dicendo che anche se a volte sembra proprio una lotta contro i mulini a vento perché comunque di fatto il pescatore non gli piace avere vicino il turista non gli piace avere vicino le donne però quando penso a tutto quello che ho e che abbiamo imparato e che ancora stiamo imparando da loro penso che salvare diciamo cercare di salvare questa attività di pesca non sia solo una passione forte ma debba quasi essere un dovere grazie sono andata troppo veloce buonasera 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 io mi sono fatto un po' di domande in questo periodo e ho incominciato a chiedermi ma come è possibile che nel mondo ci siano quasi un miliardo di persone che soffrono la fame e nello stesso tempo quasi un miliardo di persone obese in sovrappeso la prima domanda non troverà risposta questa sera è troppo complicata ma ho incominciato a chiedermi invece perché noi tendiamo a ingrassare sempre di più questo perché stiamo parlando di noi di noi che siamo qui di noi occidente ricco benestante dipende dal fatto che mangiamo troppo dipende da cosa mangiamo è difficile dare una risposta so che stiamo diventando sempre più dipendenti dal mangiare qualche sera fa ero a cena dal mio amico Giovanni Giovanni è diabetico sovrappeso d'anni ha da poco avuto un infarto non sapevo cosa portare perché sai dici vino non si può super alcolici non si può il dolce non si può alla fine ho portato dei fiori ha aperto la moglie e ha iniziato a starnutire perché è allergica al polline comunque al di là di tutto pensavo sarà una cena un po' frugale lui nel suo stato non potrà mangiare niente era l'unico che mangiava tutto ma tutto io ho detto Giovanni con quel che hai avuto fai lo so ma più mi si chiudono le arterie più mi si apre lo stomaco e giù una badillata di risotto ai funghi la cosa incredibile è che mentre lui mangiava di tutto il resto della famiglia era a dieta la moglie dieta in bianco perché ha la gastrite poi c'era la figlia vegetariana che è arrivata al secondo e ha detto papà non ti dico di fare come me ma la carne ti fa male almeno mangia pesce lui ha vitello tonnato più pesce di così papà ma la carne un giorno dopo l'altro ti uccide sì ma se devo mangiare miglio come fai tu mi uccido io non negli anni dopo una settimana il fatto è che stiamo diventando dei bulimici costanti ed è un meccanismo strano mangiamo troppo mangiamo male un giorno mangi un panino di corsa al bar il giorno dopo vai al ristorante quando usciamo dal ristorante non senti mai nessuno che dica ho mangiato il giusto che bella cena frugale mi sento sazio ma non appesantito devi uscire dicendo madonna non ce la faccio più sto per esplodere e vieni a vomitare e così mentre dovremmo mangiare 1500-2000 calorie al massimo al giorno spesso senza accorgersene ne buttiamo giù 3-4000 e ingrassiamo la situazione più drammatica è negli Stati Uniti dove pensate su 5 adulti 3 sono in grave sovrappeso 1 un grande obeso parliamo anche di persone di 150-200-300 kg i bambini in America 1 su 2 obeso in sovrappeso voi dite sì ma noi siamo in Italia abbiamo la dieta mediterranea siamo a 16 milioni di persone in sovrappeso 5 milioni di obesi scusate ho usato il termine obeso-sovrappeso sapete no la differenza forse è un po' troppo sai differenza obeso-sovrappeso sovrappeso per capirci vuol dire che se monti sopra una ragazza lei sospira e poi ti dice no guarda sto sopra io obesità è che se monti sopra una ragazza lei sospira poi non dice più niente ora come è possibile che siamo arrivati a questo livello a me fa ridere Marchione che ha pensato di lanciare la 500 negli Stati Uniti perché un americano in una 500 lo metti fin da bambino in macchina e poi lo fai crescere lì oppure devi farla col tettuccio apribile poi lo cali dall'alto ma anche noi non siamo messi bene e c'è da chiedersi perché perché se fate caso in natura non ci sono animali che di per sé sono grassi il grasso c'è ma ha una funzione specifica isolamento termico il tricheco è grasso per isolamento termico Giuliano Ferrara non è che dorme nudo sulla banchisa polare per capirci l'orso ingrassa va in letargo smaltisce il commercialista non è che ingrassa se sveglia maggio fa gli anticipi dell'età se torna a dormire sei mesi allora perché? beh semplicemente perché il nostro corpo è fatto per accumulare grassi in passato le carestie erano più frequenti nei momenti di abbondanza chi aveva capacità di accumulare grassi sopravviveva però in passato tutto era più complicato al tempo dell'uomo delle caverne volevi mangiare un coniglio dovevi cacciarlo una grigliata mista sette mesi di caccia un culo così con arco e frecce capite? l'uomo di Cro-Magnon consumava 1500 calorie all'ora quello che noi consumiamo in un giorno lui lo consumava in una sola ora tutto era difficile valeva una caverna più grande non è che andassi dal vicino di caverna cioè ci andavi ma il vicino di caverna non ti diceva prego si accomodi la manda all'agenzia immobiliare perché spesso il vicino di caverna era un orso che diceva che culo il pranzo mi è arrivato a domicilio e quindi consumavamo per forza energia per sopravvivere oggi è diverso oggi abbiamo il cibo a portata di mano spesso abbiamo i cibi pronti basta scaldarli un attimo nel microonde il risultato è che mangiamo troppo oramai fa più morti il cibo del fumo e del tabacco si calcolano 400.000 morti all'anno negli Stati Uniti per problemi di obesità il massimo della sfiga è il fumatore obeso che ha la stessa aspettativa di vita di un turista curioso in un laghetto di Caimani bello e noi siamo avvantaggiati non abbiamo più i problemi dell'uomo delle caverne abbiamo il cibo a portata di mano ne abbiamo troppo se anche ci mettiamo a dieta vai a dormire che se senti morsi della fame dentro ti sembra che il salame ti chiami dal frigo vienimi a mangiare vienimi a mangiare così ti alzi e lo mangi per non pensarci più io sono convinto che in futuro metteranno dei frigo con la password che tua moglie te la cambia prima di andare a dormire così quando alle tre di notte hai un attacco di fame vai lì provi tutte le combinazioni poi non so data di anniversario compleanno matrimonio vai da lei e dici amore ma che cacchio di numero hai messo 586 cos'è i tuoi valori di colesterolo pirla forse così la fame ti passa forse arriveremo al frigo velox che è un frigo con su una fotocamera che appena apri la porta ti fa la foto il giorno dopo c'è la prova tua moglie ti fa un culo così per eccesso di voracità però non ci sappiamo più contenere sì questo è un dato di fatto c'è gente così dipendente dal mangiare che se ha un infarto sente un dolore qua dice subito minchia c'è un vuoto lo stomaco però più in alto ma dipende solo da noi allora voglio farvi una domanda non so se starò nei tempi perché ho deciso di cambiare un po' di cose all'ultimo minuto come sempre voglio farvi una domanda e voglio chiedervi che cos'hanno in comune queste cose che vi leggerò per esempio una coca cola di quelle statunitensi una barretta di Mars una birra un whisky un tubetto di maionese delle crocchette di pollo una bomboletta di panna spray dei cornflakes una merendina una confezione di vitamina C un barattolo di senape un dentifricio cos'hanno in comune queste cose lasciate stare che sono tutte prodotte da multinazionali lasciate stare che per produrle ci vuole acqua energia tutte queste cose hanno in comune un ingrediente di partenza tempo fa quando andavo in giro a fare gli spettacoli in macchina in treno guardando fuori dal finestrino ogni tanto vedevo chilometri chilometri di gran turco lungo le strade e ogni tanto mi chiedevo ma quanti cacchio di pop corn vendono le multisale perché noi la polenta qualche volta la mangiamo ma non così frequentemente è vero che se ci pensate nelle multisale si partite dal bicchierino così di pop corn adesso vendono quello alto così che secondo me le coppie lo usano perché ci vanno dentro a limonare con un po' di privacy poi mi sono accorto che oggi il mais per esempio nell'alimentazione è pressoché dappertutto per darvi per darvi un'idea serve come mangime per gli animali di allevamento per fare l'etanolo che mettiamo nella benzina delle nostre auto si usa di olio di mais per friggere nei fast food olio di mais idrogenati sostituiscono il burro nei dolci il burro di cacao nel cioccolato il mais praticamente dappertutto il mais lo usi per fare il caramello a livello industriale l'alcol del whisky e di molti tipi di beer oggi deriva dal mais se fate caso leggete spesso grits di riso grits di mais le birre più industriali usano l'alcol prodotto col mais il metodo tradizionale si usa quasi solo più nelle birre artigianali perché costa meno col mais fai gli ingredienti di molti dei nostri cibi tipo acido citrico lattico ascorbico lisina glucosio fruttosio maltodestrine potrei andare avanti per ore persino glutamato monosodico quello che serve a dare sapore di carne al dado si fa col mais e anche la vitamina C che voi comprate dai farmacisti non è mica fatta con la spremuta d'arancia di limone deriva dal mais forse il prossimo film di James Bond sarà mai dire mais il mais è praticamente ovunque se poi comprate una crocchetta di pollo soggelata il mais è nutrito il pollo nell'amido modificato che fa da collante tra pollo e impanatura la crocchetta impanata in una farina derivata dal mais il colore che serve a dare il colore dorato la crocchetta deriva dal mais verrà fritta in un fast food in olio di mais il mais è ovunque ora non sto dicendo questo perché il mais fa male il mais fa male no se non ti siedi proprio sopra la pannocchia no però mangiamo delle cose che contengono bene o male sempre gli stessi ingredienti posso fare questo discorso per il mais per la soia per il grano mangiamo cose sempre più differenti solo per il colore della confezione i nostri antenati mangiavano centinaia di tipi di vegetali diversi noi mangiamo 5-6 tipi di vegetali in confezione di colore diverso così siamo contemporaneamente sobralimentati e malnutriti che è un po' come essere super dotati ma impotenti cioè onestamente cosa ti serve averlo lungo due metri poi molle cinciampi e c'è dentro sarà una metafora poco carina ma dà l'idea allora mangiamo sempre più cibo che è un prodotto della chimica dell'industria e non un prodotto dell'agricoltura quindi questa sera fondamentalmente sono qui per commentare un decalogo che ha scritto Michael Pollan che ha scritto un libro straordinario che è il dilemma dell'onniboro e lui dice che dobbiamo incominciare a mangiare meglio dice fondamentalmente che dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo perché oggi noi facciamo noi stessi quello che abitualmente facciamo alla nostra macchina il pieno con una differenza che la nostra macchina non è che ogni volta che fa il pieno ingrassa di un chilo noi invece sì ho comprato una smart un anno fa a forza di fare benzino alla station wagon ecco a noi succede e Pollan dice dobbiamo ricominciare a dedicare tempo al cibo perché noi ci siamo abituati al ritmo del fast food che non è solo mangiare da Mc Donald fast food è il ritmo della velocità della televisione è il ritmo del quattro salti in padella quattro salti vedi già ti dà l'idea della velocità non è ultimo tango in padella non è ballando sotto le crespelle sono quattro salti che poi sono anche un buon prodotto vai al supermercato dici però cacchio è caro e compri il suo rogato lo costi tappa in casseruola cancanna il tegame la mazzurca del pentolino roba che se leggi gli ingredienti puoi chiamare quattro scarti in padella dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire comprare gli ingredienti freschi e cucinare tu questo se sai cucinare se no meglio quattro salti in padella che quattro ore di lavanda gastrica però tendenzialmente noi compriamo cibi pronti che costano di più buttiamo via il pane secco compriamo il pane già grattato l'insalata già lavata tutta roba che costa di più per cui devi lavorare di più per guadagnare di più per comprare cose che costano di più perché abbiamo fretta io ogni tanto mi chiedo quanto cazzo ci costa la fretta al chilo l'insalata già lavata in media costa dieci volte di più di quella da lavare poi vai a casa scritto piccolo sulla confezione in fondo c'è scritto per sicurezza è meglio rilavarla cacchio l'ho pagata dieci volte di più è come se vai al ristorante per vietare e ti dice guardi non so se il cuoco alle mani pulite per sicurezza meglio che cucini lei e già che qui dia una spazzata locale perché l'igiene fa schifo dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire mangiare cibo fresco di stagione possibilmente chilometri zero locale non come fa il mio amico Mario che dice ma io mangio chilometri zero scendo sotto casa e mangio da McDonald's ce l'ho lì dedicare tempo al cibo vuol dire mangiare frutta e verdura possibilmente bio perché ci dicono sempre la parte migliore della frutta nella buccia ma quasi mai ci dicono anche la parte peggiore della frutta è nella buccia i dati anche di lega ambiente se volete vi leggete i rapporti ci dicono che ci sono troppi residui di pesticidi sulla nostra frutta sulla nostra verdura e capisco voi state pensando io la frutta e la verdura beh insomma la lavo chiaro è vero la lavi con la mucchina la lavi col bicarbonato in ogni caso non basterebbe perché l'unica cosa che serve per eliminare i residui dei pesticidi della frutta e verdura sarebbe irradiarla con isotopi radioattivi allora lì o sei zichichi o tutte le volte che vuoi mangiare una mela bombardarla con radiazioni atomiche non è comodissimo è vero che la tecnologia avanza un acceleratore di particelle in cucina chi non ce l'ha lo fa anche la mullinex però se non ce l'ha è meglio frutta e verdura fresca bio e di stagione non stagionata perché è in frigo da quattro mesi la frutta e la verdura che noi compriamo nei supermercati spesso ha percorso duemila chilometri è selezionata per essere bella per durare a lungo non per essere buona certo dura tantissimo infatti mia madre nel centro tavola ha sostituito la frutta in ceramica con quella vera perché dice che dura di più io però mangio la frutta in ceramica perché ha più vitamine tra l'altro molto comodo con l'uva perché la mangi la espelli la lavi la rimetti lì un po' più scomodo con le arance e le mele non vi consiglio le angurie dedicare tempo al cibo dice Pollan vuol dire vuol dire per esempio essere disposti a pagare il cibo il giusto perché noi facciamo degli strani risparmi è capitato anche a me un giorno ero di corsa al supermercato petto di pollo poi dico guarda ci sono le crocchette di pollo sono già pronte sono anche in offerta le compro vado a casa leggo gli ingredienti addensanti conservanti emozionanti pollo 49% pollo 49% vuol dire che il 51% non è pollo è come andare a letto con un travestito il 51% non è donna ma non è esattamente la stessa cosa e questo lo dico con tutto il rispetto per i travestiti perché noi a volte siamo convinti di risparmiare perdiamo in qualità e Pollan dice anche due o tre cose che secondo me sono bellissime dice non comprate cibi che non vanno mai a male perché se un cibo non va male è pieno di conservanti e questi si sa non fanno bene dice non comprate mai cibi con più di 5 ingredienti perché se un cibo ha più di 5 ingredienti è troppo chimico troppo lavorato e dice una cosa secondo me straordinaria non comprate mai cibi che la vostra bisnonna non vostra nonna la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo noi abbiamo dei cibi che non sappiamo più che cosa sono lo spunti che cacchio è lo spunti le spalmose io la prima volta che ho visto le spalmose ho detto ma che protezione solare hanno prendo la Nivea che vado sul sicuro e dice anche difidate di tutti quei prodotti che in qualche modo ti pubblicizzano effetti sulla salute perché quasi sempre sono presi in giro in effetti è pieno di dadi light che sono comunque fatti di sale e glutammato ci sono dei pensionati che dicono ma sì vado a dormire dopo un brodino light e vanno a dormire con la pressione più alta delle gomme di una Ferrari prendiamo i cracker light light vuol dire che hanno meno grassi del prodotto originale poi per dargli gusto aggiungono gli zuccheri il valore calorico è pressoché uguale guardatevi i dati di altro consumo ma è light tu dici mangio i cracker light non mangio due pacchetti tanto sono light e prendi 5 chili light e pensi anche chissà come ingrassavo con quelli normali perché ormai crediamo alle fabole un giorno saremo al ristorante e ci diranno non si preoccupi della dieta abbiamo il cotechino light come lo fate abbiamo un allevamento di maiali anoressici light vuol dire leggera presa per il culo e dice poi la diffidate anche di tutti quei prodotti di cui non sapendoti cosa dire ti dicono può far bene alla salute l'acqua minerale che può far bene al fegato può far bene anche i bicipiti ne prendi 4 casse fai sollevamento l'acqua che può favorire la diuresi cacchio è acqua cioè capite che se non favorisce la diuresi l'acqua e come scrive sul sapone può favorire l'igiene è esattamente la stessa cacchio favorisce la diuresi allora la prendo noi che ridiamo alle favole oppure diffidate di quei prodotti di cui ti dicono è naturale perché naturale non vuol dire niente anche l'arsenico è naturale l'uranio è naturale anche l'etame è naturale ma non per questo non lo mangi ma noi crediamo nel prodotto naturale che poi se leggi gli ingredienti certi prodotti sono sovranaturali però voglio dire naturale e allora vai al supermercato e trovi la torta della nonna buonissima fatta come la faceva la tua nonna tutta naturale ed è fantastica poi ti giri e sulla parete del supermercato ce ne è 5.000 di torte della nonna tutti uguali che mi chiedo ma quanto cacchio lavora sta nonna anche loro bastardi far lavorare così una donna anziana gente così capace che mentre lei lavora a fare la torta sono lì le fregano la pensione le nascoste se la giocano le slot machine trovi un dito nella zuppa del casaro se ti vai a lamentare ti dicono ma sai naturale la fa il casaro con le sue mani e nella pubblicità dopo c'è il casaro che dice assaggiate la mia nuova zuppa tutta naturale ben nove ingredienti naturale non vuol dire niente allora cosa possiamo fare forse possiamo smetterla di farci prendere in giro e evitare di comprare le cose che non ci servono quando non ci servono evitare se non ci serve di cambiare il computer la macchina il televisore iniziare a cambiare abitudini mentalità modo di mangiare modo di consumare forse possiamo da domani cambiare un po' il mercato grazie 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 a tutti grazie a tutti una buona serata grazie grazie alla fondazione educale che ci ha ospitato abbiamo sentito chi sono i re della terra stasera abbiamo sentito anche chi dovrebbero essere i re della terra stasera buonanotte grazie grazie a tutti